Ah, qui era terminato lo streaming. Forse ci siamo. Ciao ragazzi, intanto io qua mi diverto con la chat. Diteci qualcosa, se ci siamo. Prontissima, in generale tutto ok. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, si sente e si vede bene perché stiamo utilizzando il portatile e non abbiamo messo la telecamera esterna, quindi non sarà il massimo, però come prima volta penso dai. Ci perdonerete. Sì, tutto ok. Sara, sveglia Francesco. Si sente perfettamente. Ragazzi, siamo un po' inesperti, quindi abbiate un po' di pazienza. Cioè, l'inesperta è lei, poi lei parla plurale. Ragazzi, qua è giorno, voi ci state dicendo buonasera a tutti, buonasera a tutti. Vero, buonasera, anche se qua è pomeriggio, sono le 4 di pomeriggio. Allora, innanzitutto noi siamo a Montevideo, quindi siamo tornati nel luogo di partenza perché l'Uruguay è stato scelto come meta, cioè nel senso, no come meta, è stato scelto perché è lo stato migliore per poter lasciare la moto più tempo possibile, perché noi abbiamo un permesso di importazione per la moto e ogni stato ha delle tempistiche diverse. Qua in Uruguay abbiamo la possibilità di lasciare la moto, di lasciare la tenerona per 12 mesi e per noi questa cosa è tanta roba. Anche per noi è bellissimo. Parla piano, parla piano. Sì, scusate, sono abituata a urlare dal casco, che anche sul casco dovrei parlare piano. No, quando ti dico di parlare forte non parli forte, diciamo le cose come stanno. È bellissimo anche per noi essere dal vivo. Ciao Dani, ciao a tutti quanti. Sì. Ma quando sono belli, cioè quando è bella lei, dai ragazzi, non diciamo le cose. No, devo darmi una sistemata anch'io ragazzi, si torna in Italia anche per quello. Cioè, ora vi dico una cosa che vi farà sorridere. Cioè, Sara è quasi otto mesi che non fa la tinta ai capelli. Cioè, voi pensate, questa ragazza, no, che ci tiene tantissimo, e ve lo dico, non la conoscete bene, ma ci tiene tantissimo, e quando siamo partiti, forse una delle sue paure, ma forse anche una mia paura, era che poi, coi capelli, come facciamo? Perché ovviamente non è più di primo pelo, quindi. Joe comunque dice, sei diventato sordo, Francesco. Sì, è vero, un po' hai diventato sordo per merito o per colpa mia, non lo so. Grazie, ma quando ne siete, ma siete fuori di testa. Siete tanti, siamo felicissimi, siamo quasi commossi, vedete che, insomma, io ho un po' Comunque, comunque, dobbiamo tornare perché la sorella di questa tipa qua si sposa e era una cosa, era una cosa programmata, infatti, se avete letto all'inizio, avevamo preso il biglietto aereo di andata e ritorno e il lasso di tempo massimo per prenotare il ritorno otto mesi. Quindi noi siamo partiti il nove dicembre e abbiamo il volo l'otto agosto, proprio il tempo massimo disponibile. Abbiamo fatto questa cosa perché se prenotavamo il volo di sola andata, ci sarebbe costato quasi quanto andata e ritorno. Quindi abbiamo detto, tanto la sorella si dovrebbe sposare nel 2023, ancora si sposa. Lucia, se ci stai guardando, Giorgio, se ci guardate, pensateci bene. No, l'hai fatto anche tu, non puoi poi dire degli altri. No, perché l'ho fatto, allora io lo dico, questa cosa qua. Comunque, a parte questo, si scherza ovviamente, abbiamo preso il volo di andata e ritorno perché sapevamo che dovevamo tornare. Quindi ho letto sui vari social e il viaggio, facciamo i dubuti scongiuri, non finisce qua. Anzi, questi otto mesi sono stati una prova per vedere il lavoro, come andava, se riuscivamo a mantenerci in qualche maniera, ma soprattutto se riuscivamo a farci piacere questa vita, perché per noi era un sogno, erano tantissimi anni che pensavamo di fare questa cosa, però al tempo stesso, ragazzi, con una moto sola, per due persone, portare l'attrezzatura a lavoro, attrezzatura a campeggio, portare una piccola cucina, portare l'abbigliamento per tutte e quattro le stagioni, vi posso garantire che io non guido una moto, ma guido uno Scania, come dico spesso, però per fortuna, grazie a questo Scania, siamo riusciti a fare il giro che c'eravamo prefissati, quindi per noi è già tanta roba. Giorgio, che è lo sposo di Giormai è tardi, fra, verissimo, ormai è tardi, il dado è tratto, le jeu sont fait, quindi non si può fare altro. Saluto Irene, la mamma di Paola che ci saluta, salutiamo tutti ragazzi, ne siete tanti che ci scrivete. Allora, Morris ci chiede, io vado un po' random perché scrivete continuamente e quindi non riesco, Morris ci chiede, ma la domanda è, avete preso una moto per l'Italia? Allora, noi, l'idea è questa, l'idea è, visto questi otto mesi, che bene o male è sala alla tappi, è riuscita in qualche maniera, ormai mi chiamo sala alla tappi, è riuscita in qualche maniera a superarli, nel senso, l'abbiamo superata insieme, anche per me sono stati momenti di difficoltà, però vi posso garantire che lei aveva qualche perplessità, soprattutto perché il Sud America non ha gli stessi standard dell'Italia, quindi capiamoci bene, non è proprio semplice vivere in Sud America, ma soprattutto vivere in maniera, tra virgolette, nomade. Comunque, superati questi otto mesi, tra alti e bassi, ci siamo detti, il lavoro sta andando abbastanza bene, qua la vita è veramente molto economica, quasi che le entrate e le uscite sono state identiche, quindi ci siamo detti, proveremo a continuare, anche perché la moto qua si può lasciare, come detto, per 12 mesi, quindi non ci costa nulla lasciarla qua e poi ne parleremo magari se vi interessa, se qualcuno volesse venire a queste parti, poi ci siamo detti, torniamo in Italia per il matrimonio e con l'occasione anche un po' per i nostri genitori, per gli amici, staremo un po' in Italia per girarci un po' l'Italia, per condividere l'Italia e proprio grazie a questo progetto vendere le auto che ancora non abbiamo fatto e prendere un'altra moto, quindi non avere più le auto. Giuseppe dice che dopo le nozze ci avevate promesso di girare un po' l'Italia. L'idea è questa, l'idea è che la sorella si sposa, Lucia si sposa e Giorgio si sposano il 3 settembre. Quindi se volete venire tutti. Siete invitati, mi raccomando, un regalo abbastanza importante, però a parte quello, l'idea è, superati un po' di incontri che dobbiamo fare con delle persone, magari verso metà settembre, fine settembre, di partire. Non sappiamo se andare verso il sud o verso il nord Italia o addirittura se andare nel sud della Spagna o nel sud della Grecia, perché per noi l'idea di stare nell'Unione Europea per fine anno e magari passare questa volta il Natale e il Capolanno con i nostri cari. In realtà, ragazzi, un'idea ce l'abbiamo. Stiamo un po' considerando le varie opzioni, stiamo un po' considerando che ci è un po' mancato il caldo, perché... Considerate che noi sono sette mesi che non mettiamo la maglietta a maniche corte. Cioè, tu la porti adesso, non sei credibile. Perché c'è una vetrata qua enorme con oggi il sole. Montevideo è una temperatura stranissima, però va bene, noi andiamo fuori tema. Sì, in questo momento siamo come dentro la serra, perché poi il sole fa un po' da effetto serra. Però stiamo un po' considerando le varie opzioni, ci piaceva un po' concederci il caldo che il sud Italia regala ogni volta, però stiamo considerando diverse opzioni. Sono tutte sul tavolo e cercheremo un po' di fare chiarezza. Fateci chiarezza anche voi, diteci qualcosa, quindi patente per Sara. Bene, dovremmo fare anche quello, dice Edoardo. Allora, aspettate, aspettate, perché me l'avete chiesto tante volte. Comunque, finisco il discorso. L'idea è quella di prendere una moto e se la più grande follia è stata quella di lasciare tutto e partire per questo cambio di vita, la seconda più grande follia l'ho fatta circa un paio di mesi fa, forse anche meno, e ho preso una moto per videochiamata. Cioè, ragazzi, qualcuno mi conosce bene nei miei video pipponi e vi posso garantire che se qualcuno me l'avesse chiesto, guarda Francesco, farai una cosa del genere fra cinque anni, io l'avrei mandato a quel paese perché per me sarebbe stato impossibile. Invece, visto il contesto, visto la situazione, visto che saremmo tornati ad agosto, quindi era praticamente impossibile trovare una moto, ho praticamente ingaggiato degli amici, persone che magari qualcuno ci sta già guardando. Ivano lo sa, dice Ivano, Ivano lo sa. Persone che non parlate, mi raccomando, che già sanno tutto, ovviamente sono stati loro i protagonisti di questa... Comunque, ho acquistato una moto per videochiamata, non è una cavolata, ovviamente mi sono fidato dei consigli delle persone che la vedevano da vivo perché sono persone, dal mio punto di vista, serissime. Poi, ovviamente, ho chiesto, abbiamo fatto i nostri controlli... Spogliono lo spoiler della moto. Il tipo della moto, il tipo della moto la vedrete quando farò un video pippone perché se no, ragazzi, dai, cioè... Però ci dicono anche, ci dicono anche, come farete senza i perri? Ragazzi, è sul tavolo anche questa cosa pesantissima che dovremmo fare a meno dei perri sudamericani. Cioè, allora, una cosa, noi non ce l'aspettavamo una cosa del genere. Allora, facciamo una premessa, in realtà i perri li amiamo tutti, amiamo tantissimo quelli italiani... Vabbè, magari qualcuno li ama un po' meno, qualcuno un po' di più, però per noi amiamo i cani, però non c'è quell'amore viscerale di cui, nel senso, non abbiamo mai avuto un cane, nel senso, c'è la mia pari, c'è la mio padre, c'è i suoceri, però noi in casa non abbiamo avuto perché poi quando partivamo ci dispiaceva lasciarlo, eccetera, eccetera, quindi per la vita che facevamo era difficile avere un animale. No, non si può, ragazzi, sarebbe stato un animale prigioniero in casa e a noi non piacciono queste cose, poi ognuno un po' fa quello che crede e quello che ritiene più giusto. Però i cani qua in Sud America sono qualcosa che, se avete un'idea dei cani, venite qua in Sud America, vivete magari in Sud America come l'abbiamo fatto noi e quello che abbiamo notato in Italia, per forza di cose, per un modo di fare, perché l'Italia è avanti 30-40 anni rispetto soprattutto all'Argentina, il Cile e l'Uruguay magari un po' meno, però i cani qua sono liberi e quando un animale, ma come la persona, è libero, cioè ragazzi, io non avevo paura neanche di incontrare un cane alto quanto me che pesava 110 kg, il cane aveva paura di noi, cioè c'è una cosa che vedi, gli animali, c'è nel senso, un po' torniamo alla metafora anche della vita, meno hai e più sei accondiscendente, sei tra virgolette buono, sei rispettoso. Allora, intanto rispondiamo a Cesar Orassio che ci dice, si dice perros, no perri, è verissimo, lo sappiamo. Ma puoi dire una cosa del genere alla professoressa? No, 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 tra l'altro in base al nome credo che lui sia o spagnolo o comunque sudamericano, è verissimo, si dice, si chiamano los perros, però noi lo abbiamo italianizzato, un po' per ironizzare. È simpaticissimo, perri. Perri è diventata la parola italianizzata più apprezzata da Francesco, quindi sì è vero, sono los perros, per chi volesse un po' di, insomma, una lezione di spagnolo dalla professoressa, si chiamano los perros, è il perro los perros. No, è un mio modo di fare, ma che faccio anche con altre lingue. Poi, altra cosa, quando passi tanto tempo fuori casa, mi capita attualmente di parlare con Sara e utilizzo qualche parola in italiano e qualche parola in spagnolo e poi lei si mette a ridere, ma io lo faccio involontariamente perché la mia RAM qua è full, è piena, quindi non voglio memorizzare quattro epoche. Quattro idiomas, stava dicendo, cioè da noi si dice quattro lingue diverse, in spagnolo si dice idioma, la lingua. Non voglio memorizzare quattro lingue diverse per dire la stessa cosa, quindi me ne tengo una, quindi posso parlare magari una parola, lo faccio anche qua, una parola in inglese, una in spagnolo e una in italiano. Uno spagnolo italianizzato. Però mi capiscono sempre, lei invece deve fare la perfettina, studia la sera, la grammatica, ragazzi io non coniugherò anche i verbi qua. Devo togli, troveremo perri, verissimo, lo speriamo Claudio. L'abbiamo coniata ormai. Sto imparando ed è bellissimo. Avevamo un'idea del Sud America, siamo partiti con un po' di paure perché prima di partire, tra l'altro qualcuno che qua sta nella chat, Alessandro, che salutiamo. Loredana Pianto per il video dei perri. Anche noi abbiamo pianto tante volte, sembra un po' sciocco ragazzi, però nei momenti in cui sei da solo, sei lontano da casa, qualche volta hai anche degli alti e bassi, soprattutto io. Cioè sapete che i classici 28 giorni, poi voi mi scrivete, qualche volta si allungano, ragazzi, non sono più pochi giorni ma diventano più giorni di alti e bassi, però in quei momenti vedere un animale che ti dà il proprio affetto con la massima semplicità come siamo abituati a vedere fare dagli animali, ti riempie il cuore, quindi qualche volta è capitato di commuoverci anche a noi. Salutiamo anche Loredana. Fai veramente fatica a lasciare anche l'abitazione. Eh va giusto, perché sono per io? Perfetta, Dio, no. Però ci provo, me ne convinco. Comunque voglio leggere un po' di domande perché sennò vado a ruota libera, non va bene. Prova di indovinare GS1002, forse Aventure. Forse Aventure, sicuramente Aventure, se fosse il GS. Grande coraggio, bravissimi. Stiamo facendo un po' random, ragazzi. Caponord è più dura quel viaggio, ho messo che è più dura quel viaggio, o questo, no? Allora, l'ha scritto Roberto. Roberto, non c'è paragoni Caponord con Usuaya, te lo dico tranquillamente, perché Caponord a confronto è una passeggiata, un'uscita domenicale, perché quello che puoi trovare a Caponord è freddo, pioggia, ma qua hai una situazione, il manto della strada non è paragonabile, ma soprattutto quando scendi in Patagonia, inizia un vento che dal video non si riesce a percepire, ma io vi posso garantire, abbiamo viaggiato con 100 km orari di vento laterale, guidavo la moto a 45 gradi, ma non è tanto quello, una moto così pesante che qua hanno praticamente il vento, non è costante. Tu puoi viaggiare, arriva la folata di vento che ti sposta nella carreggiata opposta, magari dall'altra parte, il traffico è pochissimo, dall'altra parte sopraggiungi un camion, fai fatica a riportare la moto nella tua corsia, ma non è solo questo. Tante volte non sono riuscito a riprendere, perché il vento amplifica anche il freddo, come temperatura è più alta rispetto a Caponord, perché se guardate i paralleli, Ushuaia si trova più vicino al tropico rispetto a Caponord, cioè quando vai ad Ushuaia non superi il circolo volare, quindi significa che il circolo si trova proprio al limite. Quello che ciò che fai invece quando vai a Caponord, a Caponord ce l'hai a metà della Norvegia, però il vento ti fa amplificare la temperatura percepita, ma non è tanto. Se ti capita la pioggia con il vento laterale, io nonostante guido una moto con lei dietro a pieno carico oltre 5 quintali di moto, cioè ragazzi, io avevo paura a volte che mi andasse via all'anteriore, che mi scivolasse la ruota e saremmo caduti. Ho guidato tante volte con magari la temperatura percepita intorno ai 5 gradi, avevo la goccia di sudore che mi scendeva dalla schiena perché le folate arrivano improvvise e fanno, per me il vento è la cosa più paurosa. È terrificante, ragazzi. E un'altra cosa, se guardate tutti i motociclisti, magari qualcuno si trova anche qua, Valeriano forse è presente, che ha fatto Ushuaia insieme a noi, forse anche Beppe, non so se... Comunque, sanno benissimo di cosa parliamo. Noi con questo modo di viaggiare, che viaggiamo lenti perché dobbiamo lavorare, siamo stati in Patagonia per 120 giorni, cioè tutti i motociclisti vanno in Patagonia, vanno ad Ushuaia, tempo una settimana, se ne scappano perché vivere in Patagonia è veramente hard. Dormire dentro le gavagni, perché quando arriva il vento, il vento è perenne, senti il tetto che si muove, cioè fai fatica a parcheggiare la moto perché te la rovescia, è veramente complicato. C'è Stai72 che ci ha chiesto, c'è stato un momento di sconforto in cui avete detto, ma non ce la possiamo fare, adesso è scorsa la domanda, ma più o meno il sunto era questo, il nocciolo era questo. Il vento della Patagonia ci ha messo a dura prova, chi ha magari sfogliato il mio libro, magari non dico letto, il nostro libro, magari non dico letto. No, no, l'ha scritto lei, diciamo le cose come stanno. Alcuni momenti ci sono stati, perché qualche volta c'è stata la paura che ha un po' superato la soia, quindi il fatto di dire cavolo, siamo veramente nel mezzo e ne dobbiamo uscire in un modo o nell'altro da una direzione o l'altra. Tra l'altro le poche strade argentine aggravavano questa sensazione un po' di smarrimento perché sapevi che avevi pochissime vie d'uscita. Io vi dico il mio punto di vista. Come dico sempre, se l'abbiamo fatto noi, lo può fare chiunque. Assolutamente. Cioè nel senso non servono, io vi dico che è più difficile di Caponord, ma non c'è niente di complicato neanche andare a Caponord. Oggi se hai l'avviamento giusto, tutto quello che abbiamo oggi non è come viaggiare negli anni 90, è veramente molto più semplice. Io non voglio fare l'eroe della situazione, mi piace talmente tanto quello che facciamo che la sensazione di paura, di smarrimento, magari ogni tanto la dico nel video per coinvolgervi un po' di più, ma non ce l'abbiamo, cioè non ce l'ho avuta. Nel senso che prima avevo paura quando siamo partiti perché ci sono delle zone un po' più a rischio dove devi fare attenzione, ma relativo alla violenza. Cioè situazioni che magari tu vai in moto, ti affianca qualcuno in moto, ti punta, non sto dicendo una cavolata, che non puoi governare. Ti punta veramente una pistola e ti ruba tutto. Però sono delle zone circoscritte vicino alle capitali, vicino a certe, determinate città. Noi andando nelle zone un po' più estreme, nei paesi più piccoli, ci si è resi conto che quelle paure che avevamo poi con il tempo, pian piano, sono svanite e quasi più tranquillo che viaggiare in Italia. Cioè veramente, c'è la tranquillità massima. Non solo sono svanite, sono diventate un po' come dire, non è possibile, siamo in una terra in cui ci sentiamo a tratti più sicuri rispetto a alcune zone italiane, che è il nostro paese, che è il paese che ci ha generati, dove siamo sempre stati. Questo perché le piccole città, la semplicità della vita, il fatto che ci si aiuti l'uno con l'altro, è un po' una cosa che in Italia il benessere italiano inevitabilmente ha un po' lasciato andare, però insomma, qui in determinati pari, considerate che in alcuni posti, ragazzi, abbiamo parlato tanto con la gente del posto e tante persone ci dicono che in tanti pueblos dove siamo stati, il telefono o la connessione arrivata nel 2004, cose pazzesche, che quando ce le raccontavano non ci credevamo noi. solo un telefono disponibile per tutto il paese, quindi si attendeva la chiamata, sono cose, comunque rispondiamo anche a Paolo che ci chiedeva ma siete a Corridone o sono arrivato adesso? No, siamo ancora a Montevideo, dovremmo tornare. Comunque, se amate le zone un po' sperdute e vi piace viaggiare soli su strade sconfinate, paesaggi sconfinati, qua ragazzi avete il pane, avete tutto, perché è veramente bellissimo e a me questa cosa piace tantissimo. Noi abbiamo viaggiato tanto, nel canale trovate pochissimi video però abbiamo viaggiato anche zaino e spalla, abbiamo toccato più volte tutti i continenti e il viaggio che ci è piaciuto più di tutti in assoluto è stato il nord dell'Argentina che quest'anno abbiamo toccato solo in parte, l'idea è appunto, un piccolo spoiler, l'anno prossimo dedicare veramente tantissimo tempo a tutti i passi andini, tutte strade intorno ai 4-5 mila metri, tutto ripio, devo alleggerire anche la moto, qua ho imparato un po' di cose perché sto imparando strada facendo e vogliamo perderci ancora di più, speriamo che la Tenerona regga ancora perché abbiamo fatto quasi 20 mila chilometri e per la Tenerona sono stati 20 mila chilometri paragonabili a 200 mila chilometri fatti in Italia perché pensate un attimo alla situazione. Giuseppe ci chiede, andrete negli Stati Uniti? Assolutamente sì. Allora, il discorso è che noi siamo partiti senza fare un progetto, non sappiamo, è un modo di viaggiare in moto stranissimo perché se voi guardate tutti i grandi motoviaggiatori hanno un progetto, partono dal luogo, hanno un giro di boa, diciamo, oppure dicono sto fuori due mesi, il nostro modo di viaggiare, non so neanche se esiste in Italia una coppia che viaggia con una moto sola a tempo indeterminato. Questo è un messaggio subliminale per me, come per dire, cioè, non c'è nessun altro. L'idea è di andare avanti il più possibile, di proseguire, però farlo con calma perché questo cambio di vita ce lo siamo tra virgolette imposti perché cercavamo la possibilità di conoscere il luogo, conoscere la gente in quanto tutti i viaggi fatti, ovviamente per forza di cose, è normale ragazzi, quando hai un lavoro, tra virgolette, è normale, devi rispettare le ferie, noi abbiamo sempre corso, come tutti, non è che noi siamo diversi degli altri e la differenza la fa solo avere il tempo perché noi tornavamo e ci guardavamo, si potrebbe fare tante cose ma ti manca sempre il tempo e l'idea appunto per conoscere le persone, conoscere il luogo, il modo di fare, imparare la lingua perché una differenza importante la fa quando inizi a conoscere la lingua che tu puoi parlare con le persone del posto e loro ti dicono le problematiche del posto così torni veramente e sai i pro e contro e vi posso garantire che otto mesi per il giro che abbiamo fatto noi se fosse stato un viaggio tra virgolette normale in moto si potrebbe fare anche in due mesi un viaggio del genere l'abbiamo già fatto precedentemente però significa stare tutti i giorni sopra la moto e questo posso capire chi viaggia solo io sono partito con questa persona qua questo attrezzo qua con i suoi pro e contro ovviamente io scherzo quando dico che è un maiale tutte queste cose qua a me da scherzo è la persona più importante della mia vita penso che per empatia si capisca dei video e con i pro e contro perché un motociclista mi capisce benissimo che significa guidare una moto con la persona dietro una moto stracarica ti perdi tutta la bellezza di guidare la moto ti perdi tante cose inerenti appunto in mondo in mondo della moto però al tempo stesso viaggiare a tempo indeterminato poter condividere paesaggi poter condividere luoghi poter condividere qualsiasi tipo di situazione per me per noi è bellissimo ha un valore non si può non si può non si può spiegare bene a parole ragazzi cioè io lo reputo ripeto è una fortuna enorme trovare la persona giusta che ti accompagni a una scelta del genere ai suoi momenti no che va bene dai poi però Marco dice comunque in due puoi fare meno ma quello che fai è molto bello sì è vero Marco condivido al 100% e poi ti dirò ancora di più le strade che mi ero prefissato di fare le ho fatte comunque è stata durissima se sarei stato scarico da solo cioè perlomeno bagagli solo per me e da solo magari non saremmo caduti magari sarei caduto e mi sarei fatto anche più male perché avrei viaggiato al doppio della velocità sia Walter che Maurizio fanno un po' riferimento alla caduta come si supera lo shock della caduta e Walter diceva come si fa a riprendersi dal momento di scomporto della caduta vai tu dirti la tua dic la mia come si fa allora torno un po' al discorso che ho fatto prima hai la consapevolezza di essere da solo da sola da soli in mezzo a un un ambiente infinito che che non ti offre aiuto umano perché non ci sono persone in quel momento noi non avevamo nessuno intorno e per tantissimi chilometri non c'era nessuno e non è passato nessuno per tantissimo tempo ragazzi quello lo superi come superi tanti tante difficoltà nella vita normale perché quello che stiamo facendo ora è una grandissima metafora secondo me della della vita normale che scorri tutti i giorni con le sue a volte grandi difficoltà e che con le sue notizie che un po' demoliscono le giornate lo superi perché sei tu davanti al problema e non hai scelta l'unica scelta che hai è di sopravvivere di tornare a rialzarti di tornare a vedere il bello il perché hai intrapreso quella strada comunque ora la sentite parlare così perché effettivamente di fondo è quello che pensa però in quel momento vi posso garantire che non è stato facile no io già l'ho detto l'errore è stato totalmente il mio è stato totalmente il mio ovviamente guido io però totalmente il mio nel senso che se fossi stato più attento se fosse magari la velocità più bassa il vento è inciso però sicuramente non saremmo caduti però cosa succede? succede che come tutte le cose quando ci prendi confidenza ti trovi in situazioni anche difficili perché mettetevi nei miei panni avevamo cioè qui sono distanze enormi tu hai una strada infinita che è lunga 134 voi pensate a 134 chilometri con dei massi di questa dimensione dove non passa una macchina dove il vento a volte arrivano delle folate a 50 60 per fortuna quel giorno non era fortissimo però tu fai i primi 10 chilometri con attenzione poi ne fai 15 fai un tratto in piedi poi arrivi un punto che acceleri un po' perché se no non finisci mai e poi cerchi anche un po' di rilassarti quello che ho imparato sulla mia pelle quindi nel male guardo sempre il lato positivo che non ti puoi distrarre un secondo in queste circostanze con una moto così carica perché io e vi dico ancora di più anche questa cosa è un'altra cosa importante con il lavoro che facciamo avendo una camera accesa bene o male quando tu guidi devi anche parlare bene o male un po' ti condiziona nel senso che il cervello deve pensare a cosa dire deve guidare e la parte guida viene un po' diciamo per inerzia in quel caso non può venire per inerzia perché devi stare assolutamente attento però quando la strada è veramente lunga esageri un po' e lì ho peccato di superbia ho peccato di dico dentro di me posso fare qualsiasi cosa e quando come tutte le volte quando inizi una cosa magari stai attento e non succede nulla quando prendi confidenza perché tutta questa esperienza sorriffio noi in Europa io non ce l'ho e l'abbiamo acquisita qua e l'ho acquisita in un contesto veramente complicato con una moto che è veramente un camion e con il vento il vento ragazzi è micidiale perché ti sposta all'avantreno e non te ne accorgi e in quel caso basta che la gomma si sposta di 5-6 cm e vai sul brecciolino quello smosso è finita poi altra cosa le gomme quelle che avevo io sono delle gomme compromesso per il ripio qua è meglio una gomma tassellata lo so anch'io però qua nel discorso gomme bisognerebbe farci un video dedicato perché trovare le gomme qua in Sud America è una chimera in Argentina in tutta l'Argentina le gomme per le nostre moto maxi enduro non si trovano si trovano a Buenos Aires io avevo mandato anche una mail per la gomma posteriore mi avevano chiesto 500 dollari cose folli comunque va bene comunque si è vero quando si è in strada ci dicono si deve mettere in conto si il riferimento era un po' al momento ciao Paolo al momento in cui dici come la superiamo come ne veniamo fuori e poi dici ne vieni fuori insieme siamo in due non siamo da soli e troveremo la forza perlomeno io ragiono così troverò la forza lui lui me la darà io ne darò quella di cui sono capace che è io vi dico una cosa che magari non si è vista nei video quando sono caduto in quel momento sangue caldo non senti più di tanto dolore io avevo un dolore ciao Peter 21enne che ci saluta ciao Peter numero uno avevo un dolore e qualche stato e ce l'ho avuto da subito quel dolore là e vi posso garantire che alzare una moto di quelle dimensioni con il vento contro e l'ho alzata da solo perché Sara è testimoni e l'ho alzata di rabbia ragazzi e da lì in poi Pietro in effetti dice non c'è superbia c'è che è difficile è difficile è un po' difficile considerate che io ho fatto poi quattro ore e mezza quattro ore e mezza di guida a trenta all'ora con la moto che avevo paura che mi si surriscaldava che avevo paura che la temperatura salisse talmente tanto che magari si incolla qualche fascia che bruci la guarnizione della testata cose un po' particolari che in quel contesto noi in un giorno abbiamo incontrato un'auto quindi ti trovi proprio in una situazione che siamo arrivati io ero distrutto distrutto veramente e magari forse non lo so comunque ho avuto un dolore forte per 15-20 giorni per 2-3 giorni non riuscivo neanche a alzarmi dal letto non so se avevo anche una costola crinata una cosa del genere sicuramente ragazzi però è un po' il mio lei dice sempre che sono folle è un po' la mia follia grazie grazie mille Dani è un po' la mia follia fa parte di me che ne so ragazzi lei mi conosce meglio io non posso parlare di me deve parlare di me Dani lo berremo alla tua salute grazie mille davvero rispondo un attimo a Guy che dice Sara è un po' che non ti si vede truccata in realtà ho un filo leggerissimo è vero Guy? sì Guy ciao Guy non lo vedo più ci dice come mai ciao zì Maru sei una roccia grande il problema è che ho un piccolo problema agli occhi non posso posso avvicinare per pochissime ore il trucco che facevo prima poi devo togliere tutto sta invecchiando Guy la devo rottamare la devo spero di tornare pian piano alla normalità e anche a quel filo di trucco che ho tanto amato che sempre avevo diciamo la verità questo viaggio mi ha anche un po' avvicinato di più a a un insomma a uno stile di vita un po' più semplice Guy ho otto mesi che non fa la tinta tu l'hai conosciuta va bene però rispondo anche al al signore che mi chiedeva prima chiedeva Ugo Sara ti manca il tuo lavoro siamo stati talmente presi e l'abbiamo voluto talmente tanto questo viaggio che cioè non è partito dalla sera alla mattina minimo erano dieci anni che ci pensavamo l'abbiamo ragionato talmente tanto non si poteva all'ultimo si è potuto proprio all'ultimo e perché che non c'è stato spazio per metabolizzare questa cosa no non c'è stato spazio per il rimpianto non c'è spazio lo amo il mio lavoro ogni volta che passiamo di fronte a una profumeria ragazzi si ferma sempre non è detto che un giorno io non torni a farlo non tornaremo a farlo però no non mi manca siamo tanto presi da quello che da quello che facciamo da quello che vediamo dalle persone con cui parliamo dall'attenzione che dobbiamo mettere per comprendere quello che le persone ci dicono perché anche questa è una fatica abbiamo pranzato con delle persone abbiamo cenato con delle persone e ogni volta è anche una fatica comprendere perché lo spagnolo ragazzi non ci apparteneva abbiamo un po' stiamo cercando di metabolizzarlo ora comunque poi chiudiamo il discorso ieri mi ha detto domani facciamo una diretta cosa mi metto io ho detto guarda che la scelta è semplicissima hai tre cose di numero questa è una deformazione professionale Alessandro grazie grazie Ale grazie comunque qua ci hanno chiesto qual è il vostro programma l'abbiamo detto un po' all'inizio ora torneremo in Italia verso il 15-20 settembre di partire non sappiamo se al sud Italia oppure verso la Spagna verso la Grecia bisogna un attimo vedere anche il budget ragazzi perché l'Italia ci hanno detto che i prezzi sono seri tantissimi e noi che sta succedendo ragazzi noi veniamo da una situazione che se vi raccontiamo la situazione argentina attuale per noi stranieri viaggiare in Argentina vivere in Argentina significa proprio vivere con veramente poco cioè qua si potrebbe mangiare al ristorante con 10 euro due persone affittare una casa a 10 euro al giorno 15 euro al giorno la benzina la paghiamo 40 centesimi e capite bene che con il lavoro da YouTube è veramente complicato abbiamo scritto due libri grazie Michele grazie infinite grazie di cuore cerchiamo in tutte le maniere di fare qualche azienda diverse aziende iniziano a scrivermi per fare delle collaborazioni ma anche là devo stare attento per capire chi è più serio per chi è meno serio io voglio restare nella mia linea di pensiero è difficile sotto questo punto di vista forse la parte più complicata di questo cambio di vita perché viaggiare se uno ama il viaggio sia in moto che a piedi che in bici che come un camper in moto ovviamente non è comodo soprattutto per una moto o due persone però io lo ripeto sempre se ce la facciamo noi ce la può fare chiunque Norton ci dice che sua moglie si sta preoccupando ma adesso niente video no assolutamente facci sapere il nome di tua moglie no non deve preoccuparsi i video andranno avanti assolutamente anche perché qualcuno ci diceva ma Francesco hai promesso più di 100 video pippone e avete ragione vi chiedo scusa ma i video andranno avanti assolutamente anche perché io sono in ritardo perché cerco di fare i video nella maniera migliore per montare un video ragazzi io impiego 20 ore di media perché in modo è tutto più complicato separo l'audio dalle clip cerco di creare qualcosa che rimanga sul canale in qualche maniera anche fra 5 anni qualcuno lo guarda è qualcosa di ben fatto anzi vi chiedo scusa di nuovo si potrebbe fare molto meglio ma questo significa poi che un video ne pubblico uno ogni due settimane e non va bene neanche questa cosa qua però vedrete che le date si avvicineranno perché Lucia grazie siamo stati fermi al nord più tempo quindi abbiamo registrato meno cercheremo pian pianino di rimetterci in pari perché la mia idea è di non stare tanto dietro rispetto alla realtà cioè i video rispetto alla realtà massimo 15 giorni devo migliorare devo imparare miglioreremo però Tomotech ci dice andata bene che nella caduta non si siano rovinati i macbook allora qua devo fare un video pippone qui dobbiamo aprire il pippone perché tante volte una cosa che mi avete visto in altri viaggi molto carico più carico di quello che servisse perché l'ho fatto perché io anni fa avevo già in mente di fare questo cambio di vita tutte le customizzazioni tutti i video pipponi che avete visto erano in procinto di quindi dovevo testare ogni volta come quello che significava viaggiare con una moto carica erano tutti i test che facevo dentro di me perché ragazzi mettetevi di nuovo dei nostri panni non è facile con una moto per due persone portare noi abbiamo il 30% dei bagagli come attrezzatura da lavoro abbiamo due computer perché lei scrive io monto i video e tutto questo bisogna farlo Marco grazie 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 dalla Svizzera wingman grazie di cuore franchi svizzeri grazie di cuore quello che è veramente complicato è come metterla la roba perché in caso di caduta poi succede questo e qua bisognerebbe fare un più pippone tra le valice ricide e le valice morbide ha specificato dalla Svizzera però per la nuova moto quindi grazie di cuore non posso toccarli non se puoi ne toccare comunque chiudo il discorso non li toccheremo chiudo il discorso e i computer oltre a stare dentro le valice stavano dentro un'altra cassettina in plastica molto rigida con delle custodie aggiuntive dovrò fare un video dove mostriamo come abbiamo messo tutta la nostra attrezzatura perché nella moto c'è presente tutta l'attrezzatura da campeggio che non abbiamo mai usato e qualcuno dirà ma perché non lo usate non lo usate perché siamo stati molti giorni in Patagonia ma soprattutto l'abbiamo portata per emergenza e soprattutto anche soprattutto no per emergenza e anche in caso di situazioni un po' particolari vediamo un ambiente che ci piace talmente tanto sicuro ci fermeremo e utilizzeremo l'attrezzatura da campeggio però l'ho utilizzata perché se avessimo un problema con la moto sperduti in mezzo a nulla io potrei dormire anche non prendetemi come superman però potrei dormire anche di fianco alla moto però per avere un po' di riparo anche per Sara Alessio chiede come fai ad archiviare tutto saranno terabyte di materiali al volo allora io utilizzo queste cose qua che costano un occhio della testa hanno una velocità di trasferimento di 2000 comunque sono degli SSD che arrivano fino a 4 tera arrivano fino a 4 tera e ne ho 3 quindi ho 12 tera di archivazione senza pensare quante micro sd ho e non salvo tutto avevo due opzioni a casa ho un NAS che lavora in rete ma il problema qual è? il problema è che potevo caricare tutto nel NAS a casa solo che la velocità di connessione che abbiamo trovato soprattutto in Patagonia è talmente lenta che caricare i file clip video in rete è impossibile poi mettete anche un'altra cosa se guardate tutti i nostri video io registro a 50 fps quindi 50 fotogrammi per secondo a 4k a 50 fps ragazzi parliamo di tutti i video che vedete hanno una dimensione superiore ai 10 giga è una mole di roba che dopo un mese un mese e mezzo ragazzi cancello e praticamente fatto il video tengo solo le clip quelle un po' più importanti Renato ci chiede si vede che il montaggio è fatto bene grazie di cuore userei di più il drone quindi immagini fantastiche dall'alto hai ragione a 100% qual è stato il problema? il problema è che qua c'è sempre tantissimo vento e noi abbiamo un drone piccolino anche qua vorrei fare un upgrade perché a casa ne ho uno migliore però non l'abbiamo portato sempre per spazio peso roba e quant'altro ma se vogliamo aumentare un po' la qualità bisognerebbe prendere un drone un po' più performante però per adesso non l'abbiamo utilizzato perché il vento è stato veramente forte e nei parchi bisogna fare attenzione cerco sempre di rispettare le regole le norme nei parchi ti dicono di non utilizzarlo io lo chiedo sempre altra cosa il drone piccolino ho un Mavic Mini 3 Pro con il vento forte cioè in qualche maniera è stabile ma non è il massimo bene grazie Sandra grazie mille avete un sistema GPS in caso di problemi di chiamare anche solo un caro attrezzi Alessandro ho preso a caso noi abbiamo un sistema che è satellitare che funziona con un abbonamento e ha una copertura mondiale al 100% anche nei poli prende quindi l'importante è che non ti trovi dentro una gola e abbia un raggio d'azione perché si appoggia a dei satelliti che ruotano intorno alla crosta terrestre e se non prende in quel momento aspetti 10 minuti che il segnale prende ce l'hai sempre in quella maniera puoi mandare un SOS ma poi bisognerebbe farci un video perché a quel sistema bisognerebbe aggiungerci un'assicurazione perché il supporto che hai in caso di SOS è a tue spese quindi se hanno bisogno un elicottero per venire a prendere poi devi pagare il soccorso Manilo e Silvia ci dicono se vi manca il vento venite in Sardegna ci verremmo molto volentieri molto molto volentieri sappiamo che è ventosa è bellissima però il vento della Sardegna ti posso garantire che non c'entra nulla con quello della Patagonia fortunatamente no Andrea rimanete dove state qui sono tutti matti Andrea anche in Argentina sono abbastanza pazzi però andiamo avanti grazie Antonio di cuore Antonio grazie grazie muchas gracias Gaia mi sono collegato che avevo già iniziato ma quando siete in Italia Gaia noi abbiamo il volo l'8 agosto da Buenos Aires e atterreremo se tutto va bene alle 5 di pomeriggio a Fiumicino il 9 agosto nel frattempo nel frattempo Wingman dice siamo già tre video pippone solo con la live da aggiungere ai precedenti ma a me piacciono piacciono tantissimo fare solo che me li faccio tutti da solo anche le inquadrature mettetemi nei panni vi chiedo scusa ne faremo tantissimi perché per me è bellissimo cioè questo lavoro è tanto stressante quanto bello perché mi piace condividere senza mai insegnare nulla a nessuno perché anzi ho imparato tanto anche da voi nei commenti e quant'altro quindi è bellissimo questo rapporto Francesco dice che parte dalla Puglia ad Amsterdam e poi in Normandia come noi buona strada ragazzi Normandia numero uno bellissimo venite in Sicilia verremo sicuramente l'idea l'idea grande mucho gusto molto piacere sembra tutto bene forse ad ottobre saremo in Sicilia vediamo non siamo certi ancora ragazzi cerchiamo di fra sei un ingegnere no sono un geometra e ho lavorato per venti anni in un'azienda prima la faccio breve ho preso anche il timbro iscrizione all'albo con tutto quanto poi disegnavo sempre stavo in un ufficio di un ingegnere praticamente facevo i calcoli strutturali non si può dire queste cose però mi piacciono le materie tecniche sono stato chiamato da una persona che aveva bisogno di una persona che disegnasse in 3D con il computer e da là ho iniziato a lavorare per vent'anni su un'azienda leader nel settore gli stampi e il mio lavoro era quello di progettare stampi ma sono lavori abbastanza complicati bellissimo lavoro da quel lavoro potrei potrei disegnare qualsiasi cosa e realizzarmi qualsiasi cosa quello che vedete sulla moto ve lo dico io in primis è facilissimo sono lavori semplicissimi magari per voi sembra chissà che cosa ma credetemi qualsiasi pezzo che avete bisogno si potrebbe disegnare realizzare con la massima facilità semplicità perché i lavori difficili sono altri ci tengo a rispondere a Cristina Marcos che ci dice non vi siete trovati bene in Argentina no un colpo al cuore questa è una pugnalata Cristina no assolutamente ci teniamo a precisare l'Argentina è nel nostro cuore rimarrà per sempre in Argentina mi riferivo quando dicevo che sono abbastanza pazzi anche in Argentina mi riferivo alla politica perché ho considerato che il messaggio che ci dicevano fosse riferito alla politica insomma ad affari politici no ragazzi l'Italia come in Argentina lasciamo fuori la politica da tutto no però per dirvi noi abbiamo visitato Uruguay Argentina e Cile otto mesi siamo stati circa un mese qualcosa in Uruguay due mesi qualcosa in Cile il resto in Argentina per dirvi che tra i tre paesi non bisogna dire male degli altri no assolutamente ma la Ghente la Ghente Argentina no ci siamo trovati benissimo è difficile parlarne perché ancora ci commuoviamo e per tante cose che abbiamo visto per tante cose che abbiamo vissuto ci siamo trovati benissimo in Argentina e torneremo torneremo l'unica cosa negativa tra virgolette negativa veramente importante l'Argentina è che Patrizia grazie grazie mille muchas gracias aspettate quello che bisogna dire è fare attenzione negli ultimi anni le cose sono cambiate veramente tanti motoviaggiatori in passato sono venuti qua in Sud America però l'Argentina sta vivendo appunto un periodo di inflazione pazzesca e dopo la pandemia ci sono zone Buenos Aires Rosario assolutamente sconsigliate perché come già detto c'è proprio il pericolo che c'è il problema del narcotraffico e i ragazzi magari un po' fuori di testa che in quel momento hanno vabbè comunque torno a dire può capitare speriamo che non succeda mai ma noi le abbiamo evitate queste zone quindi cercheremo sempre di evitarle può capitare che qualcuno un altro motociclista ti si affianchi ti punti veramente la pistola e ti rubano tutto con la speranza che non ti sparano neanche perché sono un po' fuori di testa se volete togrivi la curiosità per i più curiosi cercate Moto Chorros Buenos Aires Moto Chorros Rosario e ne vedete questa è la cosa negativa però potete anche non cercarlo perché non cioè bisogna dirle per certe cose bisogna dirlo perché perché è importante l'Argentina e Cristina dice da Argentina ne sono felice immaginavamo fossi Argentina ci fa molto piacere è stato veramente mucho gusto di essere stato in Argentina è stato un vero piacere passa un periodo un po' difficile l'Argentina qualcuno ci ha detto il 2000 il 2001 non è paragonabile questo momento è addirittura peggiore rispetto a quello che abbiamo passato in quegli anni perché la difficoltà è anche per qualcuno fare la spesa considerate che hanno un'inflazione del 10% al mese cose assurde tipo il Venezuela pazzesco veramente e quindi la nostra questo ci ha permesso di avvicinarci ancora di più allo stato d'animo delle persone perché vivendo facendo la spesa tutti i giorni ci siamo tanto avvicinati a loro nonostante le nostre condizioni fortunatamente tra virgolette erano differenti però questo ci ha portato proprio a vivere la loro quotidianità le loro difficoltà che affrontano ogni volta senza mai perdere la speranza sempre col sorriso sempre con l'idea che prima o poi ce la faremo la speranza non morirà mai la resilienza assolutamente comunque fuori da qui da quelle due grandi città noi abbiamo trovato una per lo meno la nostra esperienza ripeto intorno ai 4 mesi Antonella grazie muchas gracias davvero ragazzi abbiamo trovato veramente tanta sicurezza più delle nostre aspettative nel senso che nei puebli pechegni puoi lasciare la moto anche lungo la strada e non te la tocca nessuno puebli cesar pueblos lo sappiamo però puebli ci chiedono se Mario Mario ti hai chiesto Mario tra l'altro questo Mario Prosperi se voi guardate questo nome qua Mario Prosperi quando il terzo libro è la persona che da casa ci ha dato un supporto enorme per acquistare la moto grazie grazie Mario grazie Mario ancora sonna davvero però non dire nulla mi raccomando grazie Maurizio Sara scrivi benissimo grazie ci provo e cercherò sempre di migliorare ti hai chiesto Mario quando il terzo libro il terzo libro da buon punto ma non è facile anche questa cosa qua stiamo anche un po' imparando su come pubblicarlo perché non è solo scriverlo ma noi ci facciamo tutto da soli quindi come la vecchia pubblicità non ha più turisti fa da te quindi a volte è difficile impieghiamo tempo per una cavolata perché appunto non abbiamo supporto di nulla e per scoprire le cose ce le cerchiamo online a volte per una cavolata impieghi due tre ore però stiamo migliorando e il libro sta a buon punto a metà diciamo forse per fine anno contiamo per fine anno di farcela ce la metteremo tutta anche perché per noi è importante perché è un'altra entrata importante per far fronte alle spese che abbiamo durante il viaggio per il viaggio ci chiedevano il viaggio è terminato la tenerona che fine farà qui ci chiesto ma quindi non riprenderete i vostri lavori il randacio l'idea per adesso no ma l'avevamo anche prima abbiamo visto che tutto sommato vivendo in queste zone qua iniziando a capirci come stiamo imparando molto su come muoverci qua si potrebbe vivere con molto poco ovviamente non abbiamo gli standard che abbiamo in Italia ci mancano questi standard a volte è difficile la vita da nomade non pensate che sia facile però abbiamo visto che in qualche maniera con diversi supporti dati dal libro dati da YouTube dati da qualche collaborazione dati dal vostro supporto con il link PayPal in descrizione come tanti ci stanno aiutando anche ora abbiamo visto che ragazzi non si diventa ricchi però io posso dire ora che poi qui ci faremo un video magari dedicato io ho aperto anche una partita IVA quindi sto pagando anche i contributi però vorrei speriamo che le entrate aumentino perché non si può solo pensare a viaggiare nel senso entrate e uscite allo stesso livello ma perché la moto si sta invecchiando la sto distruggendo ci possono essere gli imprevisti però bene o male ce la stiamo facendo e con la speranza io faccio tutti i scongiuri con il tanto impegno che le cose un po' vadano a migliorare quindi per adesso assolutamente no considerate che questo cambio di vita è stato voluto proprio perché il mio lavoro che è un bellissimo lavoro quindi è partito molto da me ragazzi era molto stressante io ho qualche problema di politica stritte ho tutto quello che potete pensare ci salutano da Corridoni Arnaldo ciao ciao abbiamo detto avevo un lavoro anche di responsabilità e un attimo ho dovuto anche a livello proprio di salute secondo me rallentare un attimo ripeto era anche ben pagato ovviamente però volevo un attimo fermarmi intervengo un attimo per dire che la scelta che abbiamo fatto è stata dettata sia dal Luca grazie di cuore Luca Nick grazie di cuore grazie scusate non avevo scorso mi ero un po' impantanata la scelta è stata dettata dalla passione che abbiamo per conoscere il mondo e come è anche nel nostro messaggio YouTube le persone che lo abitano e c'era anche un'altra cosa cioè condividere del tempo insieme noi due dedicarci il tempo di vita vorremmo continuare per il momento su questa strada lavorando come abbiamo fatto in questi quasi otto mesi io vado un attimo veloce a leggere nei commenti perché poi non mi piace questa cosa che le persone vengono si trascuriamo non va bene questa cosa quindi Aldo Mora dopo tanto tempo non vediamo l'ora di abbracciarvi sarà noi che lo vediamo l'ora moto turisti in viaggio grande Mario si riferisce a Mario Prosperi la mia famiglia di San Martino siamo stati a San Martino è bellissima veramente grazie di farci vedere i posti fantastici grazie a voi perché per noi è un onore domanda mi manca un po' l'acqua del viaggio a Caponort no non ci manca tra l'altro ragazzi c'è un problema grandissimo qui a Montevideo sentite questa cosa perché è l'assurdità a Montevideo c'è il problema della siccità da mesi non piove non sta piovendo pensate che insomma che cosa diversa sta accadendo in Italia questo è un problema che per tutti su America soprattutto Argentina però il distretto proprio di Montevideo è senza acqua quindi stanno accumulando acqua che esce dai rubinetti dal mare e sta uscendo acqua salata dai rubinetti l'acqua è potabile però l'acqua è salata perché stanno utilizzando dei sistemi per purificare l'acqua del mare poi dove siamo arrivati poi qua domanda ma vi manca un po' no ma come avete imparato a fare tutto questo ma come avete imparato non sappiamo che significa tutto questo tanta voglia di fare tanta voglia di fare cioè non tornare in dirlo no perché ci chiedevano come ci eravamo organizzati con le assicurazioni ah non l'ho detto io sì l'assicurazione noi abbiamo l'assistenza sanitaria e l'assicurazione per la moto Luciano ah ecco scusa importante questa è importantissima perché ogni paese che si attraversa l'assicurazione della moto ovviamente non corrisponde se il paese è fuori extra o e e quindi la carta verde non esiste però in Sud America c'è un come definirlo comunque c'è il Mercosur un'unione di è un po' il primo il primo disegno della CEI no? però un primissimo mettiamola in questa maniera una primissima bozza della nostra CEI di quella che era di quella che è stata a partire da anni cinquattie comunque si potrebbe fare un un'assicurazione che vi copra grazie Michela grazie mille Angelo muchas gracias a los dos grazie veramente di cuore si potrebbe fare un'assicurazione che copra tutti questi paesi nel caso specifico parliamo di Uruguay Argentina Cile Bolivia e Paraguay forse anche c'è qualche paese che sta per entrare comunque noi abbiamo fatto un'assicurazione che copre tutti questi paesi l'assicurazione va fatta temporale nel senso ti serve dal primo gennaio fino all'ultimo di maggio e praticamente tu paghi per questi cinque mesi nel caso specifico e ogni stato che entri ed esci non devi pensare all'assicurazione perché già sei coperto questo riguarda tutti i paesi del Mercosur quelli che ti ho elencato poi se vai in Peru se vai in Colombia sali ogni volta che entri in Dogana oltre a fare il permesso di importazione della moto devi preoccuparti anche di fare l'assicurazione per la moto nel periodo che pensi di stare dentro al paese Rossi ci dice ci promettete che farete più chat dal vivo sì ci proviamo è il nostro primo esperimento quindi perdonateci se siamo un po' confusionali l'abbiamo fatto l'ho voluto fare perché tanti ce l'avete chiesto e soprattutto anche per ringraziarvi in qualche maniera per tutto il supporto che ci avete dato con il link Paypal quando siamo caduti in moto ragazzi con tre giorni sono arrivati soldi per riparare la moto e questa cosa grazie infinitamente salutiamo Valeriano che è stato qua con noi e ci ha detto hai preso una stelvia e non mi dici nulla ciao Paolo Valeriano mi dispiace non ti voglio ciao Paolo Emanuela un abbraccio Paolo Peretti ragazzi era un mio ex collega di lavoro come ci spostiamo più di un giorno come a Claudio mi dispiace Armando mi sono collegato ora ma in troppo del viaggio un sottotone no non interroppiamo nulla torniamo perché si sposa la sorella di Sara era già programmato era già programmato quindi dovevamo farlo farlo per forza con piacere la Tenerona rimane qua e poi torneremo a riprenderla sarebbe bello organizzare un motore uno a Corridone insieme Massimo magari lo faremo sentiamo l'amministrazione di Corridone cosa ne pensa Fabrizio dice la vostra scelta la farebbero in tanti ma pochi hanno avuto il vostro coraggio dettato dall'amore per la libertà questo è sapere ascoltare il cuore la cosa più bella che si possa fare grazie Faber darti ragione perché noi ci abbiamo pensato veramente anni e anni fa paura tanto ma se hai voglia di provarci ti organizzi non pensate noi siamo partiti veramente con nulla nel senso che vi spiego meglio io non faccio parte di quelle persone che dicono che il 2000 euro in tasca si gira il mondo non fa parte di me questa cosa perché l'avevo una pezza in giro ci vogliono un po' di soldi però se in qualche maniera io per due anni ho lavorato da lunedì al venerdì in ufficio guadagniamo abbastanza bene sabato e domenica non uscivo mai per crearmi un canale per poter condividere cose serie per avere una seconda entrata in viaggio e da qua ho visto che dopo l'esperienza di tanti viaggi fatti in giro per il mondo quando viaggi lento spendi molto meno rispetto a quando viaggi veloce come quando fai la classica vacanza durante le ferie perché ovviamente i trasferimenti ma anche le strutture dove ti fermi poi ci faremo un video anche qua come risparmiare le strutture si risparmia veramente tantissimo se uno ha veramente voglia di provarci noi siamo il classico esempio figli di operai non siamo poveri perché la povertà è altra la povertà l'abbiamo vista in Asia in Africa qua in Italia noi facciamo parte della media ma siamo siamo a Corridonia e quindi la gente ci conosce tutti quanti un paese di 15 mila abitanti non facciamo parte della Corridonia bene però si può fare si può fare con tanto impegno perché figatevi che c'è tanto impegno dietro voglio rispondere a Michela per ringraziarla e perché ci dice prima o poi ci direte cosa è successo al confine col Cile è vero ragazzi cosa è successo me è a colpa ho combinato io l'ho combinata grossa in Cile e ve la dico in due parole è successo questo che al confine soprattutto tra al confine soprattutto col Cile ma questo vale un po' per tutte le dogane no però aspettate chiariamo il problema sussiste quando entrerete in Cile esattamente solo qua la dogana cilena solo quando entrate in Cile si entra in Cile il fatto è che il Cile è stato protetto per tanto tempo dalla catena delle Ande e quando invece gli scambi sono diventati irregolari sono entrati in Cile diversi batteri diverse malattie loro ci tengono in maniera proprio precisa ci sono delle restrizioni anche quando si entra in Argentina però l'Argentina come l'Italia insomma siamo abbastanza morbidi il Cile no lo sapevamo non si può in tutti i paesi quando si passa la dogana non si può inserire non si possono portare cibi freschi quindi carni frutta eccetera non si possono portare derivati vegetali però per esempio riso sì ceci no bisogna fare attenzione noi abbiamo sempre un piccolo magazzino che portiamo in moto con noi perché non finiamo tutto da uno spostamento all'altro questo è un altro problema di viaggiare in moto a lenti perché noi portiamo dietro anche la roba la mangiare che ci avanza quindi chiaramente cerchiamo di buttare il meno possibile per lo spreco alimentare e perché comunque ci serve è denaro e cerchiamo di risparmiare in tutto quando abbiamo fatto tutte le pratiche in Cile bisogna fare una dichiarazione online in cui si dichiara sotto la propria responsabilità che non si sta immettendo non si sta facendo entrare in Cile nessuno dei cibi delle piante proibiti cioè non concessi dal ministero dell'agricoltura cileno c'è una lista ma come tutte le liste ragazzi è difficile da capire è difficile capire qual è il limite tu quando non vuoi buttare via le cose noi che avevamo avevamo un barattolino di miele ma ragazzi ma avevamo caffè in polvere era anche finito il miele un barattolino di miele di questa era piccolissima ci siamo ricordati io mi sono ricordata all'ultimo e che ho fatto aspettate siamo andati in dogana abbiamo fatto tutta la procedura abbiamo fatto questa dichiarazione che si può fare online con il telefonino noi l'abbiamo fatta quando l'abbiamo fatta dopo averla fatta c'era una bacheca dove c'era scritto proprio specifico miele assolutamente non introdurre miele quando io ho visto questo mi sono irrigidita cavolo anche perché io avevo detto buttalo prima di andare però in quel momento non c'eravamo ricordati del miele in realtà e quindi quando cavolo io ho il miele fra ho il miele come si fa come non si fa ragazzi non c'erano bidoni bastava in quel momento che io dicessi all'operatore doganale purtroppo ho dichiarato il falso il problema è che l'avevamo già fatta la dichiarazione però la dichiarazione era già stata fatta che cosa ho fatto non lo fate mai la moto era parcheggiata 100 metri fuori dalla dogana perché come arrivi in dogana devi lasciare il mezzo poi fai 20 metri in base alla fila che trovate vai negli sportelli fai tutti i documenti grazie Norton intanto e grazie Alberto muchas gracias a los dos fatti i documenti siamo tornati alla moto e non c'era nessuno Sara io ho avuto la brillante idea perché sapevo che era sotto la mia responsabilità io avrei dovuto buttare perché io mi occupo degli alimenti ma non è questo il problema non avendo un bidone dove buttare le cose perché ci trovavamo nella terra di nessuno tra una dogana e l'altra e non avendo molta devo dire la verità non avendo fiducia negli operatori doganali e qui ho sbagliato perché bastava che io dicessi ho sbagliato non sapendo sto introducendo miele e non voglio introdurlo quindi ve lo dico bastava questo e l'avrei buttato invece l'ho appoggiato sul marciapiede no ha fatto 50 metri più allontanandosi dalla dogana mi hanno vista l'hanno vista e hanno condannato il mio gesto giustamente giustamente ho visto la guardia doganale che veniva verso di noi ragazzi lì dentro di me ho detto qua è la fine ringrazio intanto Marco due senza tre grazie mille grazie di cuore muchas gracias comunque mi hanno mi hanno trascinato in la officina cioè a me no a lei a me venga con noi in officina lei venga con noi a me ragazzi ha fatto smontare tutto tutto ci hanno aperto tutto la moto io non ho visto mai una cosa del genere perché da quella cosa non si fidavano più di noi e quindi ogni singola cosa mettete nei miei panni che ci ho messo due ore a rimettere a posto le cose è vero ci dicono wingman in nuova zelanda non ti fanno entrare nemmeno una mela e la frutta lo sapevamo la mela è uguale anche la mela non può entrare non può entrare nulla però ho sottovalutato il miele non mi sono ricordata di averlo comunque Sara è stata sequestrata io sistemavo le cose per un'ora e mezza due e non tornava più io ragazzi iniziavo a preoccuparmi veramente perché non la vedevo non la vedevo alla fine è uscito l'operatore dove andare hai chiamato a me sì allora stringiamo non c'è stato fortunatamente l'arresto sono stata comunque segnalata in una lista nera in una lista nera ci sarebbe stata una salatissima multa no la multa la multa già ce l'avevano fatta esatto e poi parlando è arrivata all'ultimo una ragazza che ha avuto un po' un po' compassione del gesto che avevo fatto un po' anche le parole che ha detto Francesco perché si è messo un po' a implorare perché alla fine mi hanno chiamato sono arrivato Sara aveva fatto aveva gli avevano tirato tutto il papiro e da là io ho detto ma per favore noi non sapevamo queste cose giustamente 300 dollari di multa ragazzi per un cucchiaio di miele mi hanno sgridato Sara mi sono messo in ginocchio io ho detto ma veramente ma che state facendo mi hanno sgridato in maniera opportuna perché io avevo sbagliato però mi hanno sono molto i cileni sono rigidissimi non bisogna rigidissimi non sono neanche come i tedeschi i tedeschi sono rigidi ma non urlano i cileni sono ancora più cattivi e quindi tutta il mea culpa su questo gesto che ho fatto non lo fate mai però dico la verità ragazzi ho sottovalutato e non me ne sono ricordata comunque alla fine diciamo le cose come sono andate per questa volta ci hanno graziato ma siamo stati iscritti è stata scritta nel libro il mio nominativo se succede la prossima volta perché tutte le dogane si controllano una con l'altra quindi comunicano la multa è raddoppiata ma non succederà ragazzi è una esperienza di cui far tesoro è anche vera una cosa che non avendo avuto da quando siamo cresciuti insomma non avendo avuto le dogane in Europa perché erano state abolite nel 92 da noi non siamo stati così tanto abituati alle dogane a parte i nostri viaggi in Russia a Turchia dove insomma non c'era stata questa non avevamo sentito questa necessità non trasportando così tanto cibo no ma non abbiamo manco un'esperienza da giro del mondo esatto perché per non male questa è un'esperienza un po' più fuori dalla Russia dalla Turchia non siamo andati mai quindi ora stiamo viaggiando tra virgolette in maniera seria con tutte le difficoltà di viaggiare con un mezzo con targa europea fuori all'Unione Europea perché sono tanti limiti ti salutiamo devi andare a dormire va bene ci vedremo nella prossima live e intanto Faber Sara nella blacklist esatto proprio così ragazzi sono nella blacklist cilena mi dispiace tantissimo perché non avrei mai pensato di tra virgolette non è il termine giusto però di fregare qualcuno il miele era quasi finito figuriamoci se potevo liberarmene benissimo però non me ne sono ricordata abbiamo imparato sulla nostra pelle Alex siete stupendi spero un giorno incontrarvi ringraziati per la condizione delle vostre esperienze sarà uno dei nostri Alberto pregnerà number one un abbraccio un abbraccio numero uno persona in gambissima Guido Villa ciao Guido c'è altra persona in gambissima siete tutti qua ciao Guido Lucia sì Lu sono segnalata sono segnalata in Cile domanda da un milione di dollari avete mai pensato di organizzare viaggi ce l'hanno chiesto in tantissimi forse mi sopravvalutate si potrebbe anche fare però non voglio stare nella parte dell'insegnante mi piace non mi piace questa cosa abbiamo viaggiato sempre soli forse anche per questo motivo però in futuro non si sa mai Lucia Bartolaci pure segnalata Lucia Bartolaci comunque è la sposa non scorrere cerchiamo cerchiamo un attimo di rispettare tutti Lucia ecco vedi è un cileno che mi sgrida perché mi dispiace perché salto salto random non mi piace Claudio e come fai senza Sara verissimo ti hanno ti hanno sgridato a Sara sì l'hanno sgridata veramente si è impaurita veramente ci ha avuto anche un pianto di nervoso ragazzi liberatorio ma è chiaro che in tutte le dogane non si può portare quello che loro dichiarano di non portare ma a volte ci si dimentica è stato proprio così purtroppo è proprio così è stato anche perché ora con l'esperienza che abbiamo non è detto che la prossima volta sappiamo quello che possiamo fare perché abbiamo superato diverse volte queste dogane e in alcuni posti controllano in alcuni posti non controllano nulla quindi è un po' però però al di là del controllo non si può fare non si può fare non si deve fare non fatelo Bianca caspita io sono andata nel panico e anche Sara è andata nel panico io invece mi ero un po' incazzato però va bene modi di fare non so se so non se so scordati a gusto forse parlava con uno sopra mi dispiace se abbiamo dimenticato qualcuno come si fa a sgridare Sara si fa si fa ma che esagerati questi gileni sono esagerati può succedere aspetta dove siamo andati qua qualcuno ci dice avete trovato dei doganieri flessibili come il titanio sapevamo che quella dogana era un po' particolare ce l'avevano detto ce l'aveva detto Davide Biga ragazzi il momento del coi ne succede a tutti a me è capitato ci è andata bene Maurizio vuole sapere quando durerà l'assegnazione non lo sappiamo forse a vita purtroppo mi sono collegato adesso vi abbraccio tantissimo se tornate vi aspetta ma povera Sara che cattivi questi gileni si abbastanza cattivi Sara la prossima mamma mia Sara la prossima mangialo quel miele come guide turistiche sareste fantastici grazie di cuore Giuseppe Sara la maestrina rimproverata dal prof guardate ragazzi proprio la legge del contrapasso ho capito che non regalerò mai del miele a Sara Sara la maestrina se fumi ti portano se fumi ti portiamo avremmo pagato per liberare Sara grazie di cuore allora Giovanni potevi mangiarlo no era troppo tardi se ti vedevano era comunque fatta no ma le limitazioni in dogana riguardano solo gli alimenti in particolare sì perché loro ci tengono particolarmente a che non non entri in territorio cileno non entrino batteri che loro non hanno mai avuto e quindi sono principalmente su alimenti o comunque piante animali insomma tutto ciò che è vita che è essere vivente che vai a immettere Antonio ciao ragazzi vi ho in fortissima ma adesso la dogana ok ma inter questa è malimitazione in dogana riguardo solo gli alimenti Francesco non fare il modesto tu puoi insegnare veramente grazie di cuore è troppo buono non possiamo leggerli tutti faremo ciao ragazzi un saluto da Simone a Marco ciao da Canada quando ci vedete l'Italia ha fatto dei giorni dove potete incontrare cercheremo di farlo ragazzi vediamo quello che diciamo ciao ragazzi se dei nostri idoli ci avete ispirato Michele grazie intanto muchas gracias non possiamo leggerli tutti annoieremmo tutti chi l'ha detto non è vero ritroveremo su D-Max qualche programma tipo ritroveremo su D-Max sangue cileno sangue cileno le cose vanno fatte fatte bene ritroveremo su D-Max magari quando arrivi all'aeroporto i monosalesi ci sono i perdi salsizia che non sarà Sara la porto in fraschetta ok traveling Sara sì sarà tutto materiale per il libro verissimo verissimo tipo western c'è la taia sulla mia faccia probabilmente sì guardate che non solo sarà una prof anche Francesco un prof di meccanica grazie di cuore Alessio Sara la super zavorina ti ricordo ho comorato la tenerona Mauro spero che ti troverai bene con la tenerona ragazzi siete grandissimi ma avete chiesto cosa potrebbe poter però Riccardo dice Francesco per come la tratti tu Sara doveva essere abituata infatti scorre sangue cileno ormai ne ho la certezza voi ragazzi voi ragazzi pensate che io la tratto male ma qui la vera fortunata è lei della coppia ma che pensate quanto vi hanno salvato le tute nella vostra caduta ragazzi questa cosa non abbiamo ovviamente il confronto con un altro marchio però rucca o non rucca è ingiusto dire rucca sì gli altri no perché secondo me anche gli altri marchi avrebbero fatto il loro dovere però le protezioni i guanti il casco il casco significa che nonostante quella brutta caduta su quel terreno là ragazzi noi non avevamo la più piccola proprio abrasione solo c'è stato l'impatto l'impatto nel mio braccio il livido grande dell'impatto sulla mia anca e sul braccio di Francesco Armaduc dice Sara ha segnalato anche alla dodana di San Marino quindi assolutamente le protezioni ragazzi sono fondamentali in moto veramente fondamentali ragazzi non viaggiate nudi mezzi nudi neanche per andare al mare ve lo ve lo straconsiglio non viaggiate nudi ma non avete mai pensato di inviare i vostri video a qualche trasmissione di settore non so se questo appretene Alberto noi non abbiamo fatto nulla di nulla non abbiamo neanche fatto un programma come fanno molti motociclisti siamo partiti senza dire niente a nessuno forse abbiamo sbagliato sotto questo punto di vista per poter monetizzare di più però è il nostro modo di fare io sono dell'opinione anche tutte le aziende che utilizzo le utilizzo perché secondo me sono il top nel senso non ho chiesto ma niente nulla a nessuno anzi diverse aziende per esempio nel settore l'avviamento mi hanno contattato ho preso Rucca perché non voglio fare pubblicità a Rucca ma solo perché parliamo di è come se la Ferrari ti chiama ti dice vuoi farti un giro con la Ferrari è stata facile la scelta solo per questo per le valizie Arquata del Tronto un grande abbraccio a Francesca Antonella un abbraccio ragazzi abbraccio enorme Arquata del Tronto ci sono passate mille volte con la moto mille volte ci sono passate un saluto da Brescia vi seguo saluto anche a Brescia è un piacere viaggiare con voi riunione in aeroporto ragazzi ciao Marco buonanotte si muove la serie magari se fa piacere a voi fa piacere anche a noi 9 agosto alle 17 a Fiumicino Campania costera Amalfitana è bellissima lo sappiamo ci siamo stati ma torneremo perché è uno dei posti più belli al mondo Sorrento Pompei Vesuvio Napoli e tutti i suoi borghi ragazzi da fuori quando si pensa all'Italia e quando si guardiamo qualche volta sui social dei video riguardanti l'Italia ragazzi è un pezzo di core nel senso che l'Italia è davvero un bijou vista da lontano è ancora più commovente quindi chiamiamocela stretta chiamiamocela stretta quando vivi tanto tempo fuori all'Italia ti rendi conto di quando veramente sei fortunato ad essere nato in Italia soprattutto anche nelle nostre zone centro Italia collinari veramente fortunati sotto tutti i punti di vista l'Italia come dico sempre ha mille problemi ma se venite qua qui ci sono milioni di problemi veramente dobbiamo ringraziare anche chi è venuto prima di noi in Italia chi ha lavorato per insomma per rialzarla per farla per levantarla come si dice qua in spagnolo per farla rialzare dopo la guerra e chi ha lavorato anche politicamente in quegli anni per farla arrivare a quello che è stata perché tutte le concessioni che abbiamo a partire dalle concessioni per i lavoratori ragazzi ci stiamo accorgendo che è difficilissimo e quindi questo bisogna dirlo magari ne parleremo farò io un video pippone che non guarderà nessuno perché questi sono argomenti meno meno interessanti però Roberto dice nessuna casa editrice ha intenzione di pubblicare i vostri libri non lo sappiamo perché anche questi sono stati pubblicati l'abbiamo autopubblicati su Amazon c'è questo modo questa possibilità e noi ne abbiamo approfittato se qualche caso si fa avanti per noi è solo grazie solo un enorme supporto magari quanti chilometri ha la Tenerona ci dicono quanti chilometri attualmente ha 100 quasi 125 mila una cosa del genere 123 non guardo bene ma stiamo giù di lì compriamo Pellerucca sono i studenti con voi ottima scelta città di Castello portereste del miele a ritorno in Italia no no non lo mangio neanche più lo mangiamo sempre magari dulce de leche se qualche argentino sta guardando sai quello di cui sto parlando molto piacevole è un po' è il ripieno delle nostre mu dulce de leche si è buono è buono è una sorta di copia della nutella non proprio uguale Emanuele vi aspettiamo a Corridonia grazie Morris ci dice con le camere i filmati i droni avete avuto problemi in Nogana in Nogana cerchiamo sempre di non filmare quando vediamo che l'operatore magari e magari ci dice però se abbiamo ci è capitato diverse volte con il drone proprio il fatto di trasportare no ti dice anche le camere ti dice con le camere i filmati e i droni avete avuto problemi in Nogana no allora il drone nessun problema qua tra i paesi attraversati Uruguay Cile e Argentina per le camere i filmati ti dicono di spegnere la camera non l'accendiamo mai lo sappiamo non si accende l'abbiamo anche ce l'hanno anche di spegnerla Emanuele lo salutiamo ciao grazie compaesano quando un motoradona con una tipo Pellinaggia la mecca magari magari lo faremo poi dove siamo andati a finire siete veramente deve leggere tutti ma magari è impossibile vi teniamo qua fino a domattina annoiandovi Claudio Rita ripeto il messaggio quando tornate incontro con i bikers c'è uscolo e vernaccia come se piovesse grande Claudio ma ci manca tantissimo non mi fate trovare miele saluti da Lecce siete fortissimi grazie un saluto da Pollonica ciao Pollonica grazie per la risposta comunque Pollonica Alberto come mai la scelta del cambio di vita in giro in Sud America non in Italia allora bella domanda anche mio padre me l'ha fatta questa domanda ultraottantenne che aveva paura perché io ragazzi ho perso mia madre tanto tempo fa quindi mi ha fatto questa domanda e mi ha detto ma perché ti allontani così tanto quindi ci abbiamo pensato a questa cosa però la nostra voglia è di girare un po' tutto il mondo se ci riusciamo non per scramanzia non diciamo nulla però l'idea è di girare un po' tutto il mondo sicuramente di metterci anche l'Italia di mezzo infatti torniamo e siccome tanti di voi ce l'hanno chiesto ma perché non condividete l'Italia qualcuno ci ha scritto anche ma ora che siete in un luogo dove io non andrò mai prima invece vi seguivo perché condividete le strutture il cibo gli itinerari ora magari faccio più fatica perché non farò mai questo cambio di vita oppure questo viaggio l'idea è di fare un po' e un po' cercare appunto di prendere il meglio di ogni cosa e di condividere il meglio di ogni cosa però poter viaggiare fuori Italia a conoscere altre culture la mia voglia interiore era di imparare le lingue e quello che studia a scuola purtroppo ovviamente senza la pratica io meno male qua sto imparando con divertimento mettiamola in questa maniera e poi altra cosa questa è importantissima se qualcuno me l'avesse chiesto prima forse non sarei stato in grado di rispondere o avrei risposto in maniera sbagliata quando fai un viaggio lungo dopo tre mesi che sei partito ho un'idea dopo cinque l'idea ti cambia ancora e dopo sette ti cambia ancora di più quindi è stata un'esperienza veramente enorme e io l'auguro a tutti di poter fare una cosa del genere in qualsiasi momento della vita perché io sono il primo a dire che è difficile da fare è difficile magari se hai figli piccoli noi abbiamo incontrato coppie con figli piccoli ovviamente non in moto no in bicicletta sì però che hanno deciso di fare questo cambio di vita follia io non mi sento di giudicare nessuno fino a quando tu fai una cosa che non porta danno a nessun altro perché non provare poi ognuno cioè sono consigli che si danno male però vi dico che attualmente torniamo con che non sappiamo come reagiremo in Italia non lo sappiamo è da è un po' quello che abbiamo iniziato dal Sud America però come ha detto Francesco l'idea è quella di l'idea in grande è quella mi rendo conto è quella di girare un po' tutto il mondo però io gli dico sempre in realtà il sogno nel cassetto è quello di girare meticolosamente l'Italia perché l'Italia è un mondo per quanti piccoli borghi e paesi abbiamo per quante tradizioni a partire da quella culinaria ecco il cerdo maiale che parla abbiamo per cui glielo dico sempre il sogno finale è quello l'Italia possiamo farla a piccole dosi e poi girare tutto il resto poi la vita è breve ragazzi bisogna cercare di fare tutto il prima possibile probabilmente se si può e finché si può poi la semplicità la massima la affidatezza grazie di cuore enorme grazie grazie mai problemi con il tessuto in dogana no ma nella lista nera della dogana non lo sappiamo penso a vita Giulia io mi auguro grazie Federica li farò Giulia per la lista nera io mi auguro che una volta uscita dalla dogana cilena da quando siamo rientrati poi in Argentina al nord spero che si sia di nuovo alzerato lo chiederemo quando entreremo questa è un po' una mia speranza non è una certezza un documentario della vostra sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo anche per noi prenderete un'altra tenerona no la tenerona ce n'è una sola per noi quindi non la prenderemo tra un paio di settimane parto con la pensata per la mia volta per lo steve a 25 anni sognando di essere noi te lo auguriamo di cuore Alessio te lo auguriamo di cuore e poi non ci mettere sopra a te perché non ti do del tu ma non lo siamo Italia è bellissima verissimo vero Cristina è vero Paolo da Cervetri anche io a mia zagonina ci siamo parecchiali capita ciao ragazzi mi dispiace per quello che è successo se vuoi il canale Steps Over per alcuni anni hanno celato gli stati anensili li conosciamo e non si sono mai posti il problema del cibo alla dogana non so se non l'hanno detto però ragazzi il problema c'è c'è e in Cile è grave il problema c'è in Cile quando si entra in Cile è enorme ci sarebbe la problematica c'è anche quando si entra in Argentina però in Argentina sono molto più malleabili non effettuano grandi controlli quindi però si deve sempre fare attenzione Marco Cola fra Sara basta mi state facendo balenare mentre la voglio di vendere la panigale e prendere parti vamos Marco come si dice me coglioni che moto che hai Massimo Massimo grazie grazie mille muchas gracias allora qua dove sono andato a finire che sono andato che bello vederti in diretta siamo andati a Caponord anche grazie ai vostri video grazie di cuore un onore un saluto ragazzi vado a Nanna ciao Bruno buonanotte ciao Bruno ma almeno si può sapere se la nuova moto si addice alla tua statura alla sua si alla mia no si assolutamente l'ho presa anche per questo motivo qua è una giapponese se ti do questa risposta poi è molto è facile azzeccare la cosa ti dico una cosa era in ballottaggio una giapponese ci sono due modi in ballottaggio poi la butto là voglio vedere se ci azzeccate comunque Africa Twin Adventure Sport 1100 o GS Adventure Francesco dice ve l'ho buttata là chi di voi sceglie la colonna sonora dei video la scegliamo insieme sembra assurdo però io sono lì davanti e la faccio sentire a lui che nel frattempo sta montando Riccardo bellissima domanda questa nell'esperienza di adesso vi dispiace di aver fatto prima questo cambio di vita Riccardo io ho questo modo di ragionare non guardo mai indietro è diverso da quello di Sara non mi piace pensare che quello fatto in passato è sbagliato io penso sempre che se ho fatto una cosa era la cosa più giusta e la cosa giusta da fare farlo prima era impossibile per diversi motivi in primis dovevo avere più sicurezza di tutto quello che prima di partire mi sono documentato tantissimo nel corso degli anni sulle rogane sulle restrizioni su quanti soldi servono per vivere e poi bisogna anche mettere da parte qualcosina al tempo stesso crearti un lavoro per poter mantenerti perché parliamoci chiaramente se non hai un budget o non hai un budget importante o non hai un'entrata che potrebbe essere da un affitto o da qualcosa ragazzi come ci si mantiene quindi è stato un po' un progetto che è partito ma tanti anni fa con tanta tanta voglia tanta determinazione che alla fine quando hai la passione e la voglia non ti pesano neanche massimo grazie di cuore quindi a corti discorsi ragazzi dovevamo anche un po' lavorare per lavorare normalmente per poter partire e poi in base a questo ci siamo un po' costruiti andare avanti provarci perlomeno provarci si chiama Giorno Tarancini ciao ragazzi provate a sentire se non lo conoscete per i viaggiatori come voi si chiama Giorno Tarancini potrebbe essere una collaborazione micidiale non si sa mai si potrebbe anche fare Michele comunque lo conosco per i social ciao ragazzi chi vuoi scegli la colonna si è decisamente costoso viaggiare in Italia se paragonato al Sud America verissimo assolutamente si ed è stato uno dei motivi per cui per ora lo facciamo un po' a piccole dosi come abbiamo detto prima l'Italia è un paese dalle mille sfaccettatori però anche qua è importante bisogna distinguere il viaggio perché se fai un viaggio che vai sempre in una struttura e vai a mangiare al ristorante noi in otto mesi saremo andati a mangiare al ristorante dieci volte quindi anche viaggiare in Italia se affitti una casa magari non per due notti ma visto che hai tempo l'affitti per una settimana e vai a fare la spesa ragazzi il budget si abbassa tantissimo perché appunto la parte della ristorazione è fondamentale nel budget è fondamentale anche qua in Sud America ecco perché la cuciniera deve cucinare ragazzi vi faccio partecipi di un messaggio di mia madre batteria scarica buonanotte mia madre con tanti cuori mamma Maria Rita Lattanzi è la suocera ragazzi la socia più folla del mondo ha la batteria scarica del telefono ragazzi me ne vado già sto pensando le lacrime quando abbraccia la figlia ti riprenderò Maria Rita un bel evento in Franciacorta per incontrare tutti voi ma magari in Franciacorta magari un sogno un sogno veramente dobbiamo ringraziare aspetta ho visto scorrere dobbiamo ringraziare Roberto grazie mille muchas gracias poi viaggiare lontano ora che siete in salute giovani poi quando arriveranno gli acciacchi guarda Lina Tornetti un po' lo penso veramente quello che dici sperando che la salute ci assista un po' però nella vita purtroppo non si sa mai arrivare non lo so però il tuo commento ha una ragione lo condivido tantissimo Sergio Nt100 ideale buona moto ma non mi piace tanto esteticamente anche per l'idea che ho in mente saluto la GS Aventure per l'idea manca la fecatella stai valutato la GS Aventure manca la fecatella Stefano ti salutiamo perché si alza alle 5 ciao ciao buonanotte grazie ragazzi purtroppo ciao anche una grande ottima moto anche questa anche se il tre cilindri non mi entusiasma ma posso dire che è un'ottima moto spingo per GS Aventure ma sono di parte Claudio Manciocchi visto mai sarà un GS Aventure Augusto dice perché non pensare a un bel camper bellissima domanda se hai visto qualche video fatti in Italia noi dal 2018 2019 io ho valutato tantissimo l'opzione di prendere un van di camperizzarmelo da solo ma anche qua se per esempio vuoi fare un bel viaggio e stare tranquillo bisognerebbe avere un mezzo su base Toyota Hilux su base Defender o addirittura prendere un van 4x4 se non un camion come Steps Over che l'avete menzionato prima solo che senza girarci tanto intorno prendere questi mezzi soprattutto in Europa parliamo di cifre molto importanti che dal nostro punto di vista noi non ci potevamo permettere perché se spendevo quella cifra là poi non avevo la riserva per poter stare tranquillo e partire altra cosa oltre all'aspetto economico come ha detto prima Lina siamo tra virgolette ancora mediamente giovani mediamente Matteo grazie intanto la moto la moto è veramente molto più complicata anche per il lavoro che facciamo è molto più complicato condividere video però l'emozione che hai con la moto non è paragonabile te lo garantisco perché ogni volta che ci fermiamo da qualche parte cioè ragazzi si intorno si crea una folla di gente c'è chi ti chiede perché la moto unisce unisce perché capisce che tu sei in difficoltà in Patagonia ragazzi la gente ci fermava e ci diceva ma come fate ma come fate a partire dai bambini cioè chi ci viene incontro sono proprio i bambini è bellissimo quindi finché finché riusciamo poi c'è qui c'è un'altra novità viaggiando bisogna fare un altro video qua per rispondere a questa cosa no perché è molto interessante un mezzo qua si potrebbe prendere con la metà dei soldi dell'Europa però c'è il problema della immatricolazione qui ragazzi è complicata la cosa ci sto studiando ci torneremo ma la sto valutando questa cosa qua del mezzo ma per adesso vorrei continuare magari per qualche anno ancora con la moto Francesco Maria grazie ci dice controllatevi ho girato un caffè grazie mille grazie muchas gracias Libor Cossack ci troviamo tutti dal porchettaro di Casterra in mondo ma magari numero uno numero uno il porchettaro allora Fabio grazie wingman dice solo caffè grandissima moto grandissima forse anche troppi cavalli per il mio punto di vista l'unica cosa io lo dico tranquillamente quando ti abitui al cardano ma non perché il cardano sia meglio la catena è meglio del cardano per mille più motivi però in un viaggio del genere quando viaggia anche molto carico la comodità del cardano è veramente alta nel senso se ti si rompe il cardano la moto la lasci lì dove sta però se facciamo tutti due scongiuri la comodità il fatto di fare sterrato di fare ripio di prendere fango e hai praticamente una macchina non pensi alla catena dopo la super tenere faccio veramente fatica a tornare alla catena altrimenti KTM che gli vuoi dire non è paragonabile la super tenere è nettamente superiore Dani Go ci dice Dani vi è piaciuto il cibo in questo paese Argentina Uruguay e Cine allora io dico la mia ci è piaciuto soprattutto perché tutto il mondo todo il mondo sa che l'alimentazione soprattutto sudamericana è fondata sulla carne roca carne rossa che è maiale bovino un po' molto meno pollo comunque Dani la faccio la faccio corta ci è piaciuta ma al tempo stesso è l'altro enorme limite di viaggiare fuori Italia perché quando sei abituato alla comida italiana dopo torniamo al suo discorso se viaggi un mese non hai nessun tipo di problema perché fai tutti i tuoi sforzi tra virgolette sopporti qualsiasi cosa e poi magari quando torni dici tanto fra un mese torno e ritorno alla vita di prima quando invece viaggi nella lunga distanza la comida è la parte difficile di un viaggio a lunga distanza grazie per la domanda Dani perché noi noi in qualche maniera mangiando a casa riusciamo a compensare perché la pasta la trovi trovi qualcosina ma tutto quello che trovi in Italia qua fai diviso due se non diviso tre e la qualità non è la stessa ad esclusione della carne che è migliore qua che è un capitolo a parte e ti dico una cosa Dani ti dico una cosa poi chiudiamo il discorso in Argentina attualmente la migliore carne che è migliore di quella italiana la paghi tre euro al chilo e questo tramite il cambio dollaro comunque la paghi tre euro al chilo quattro euro al chilo in Italia con 30 euro non è la stessa c'è un'altra cosa che qui in Argentina ci piace è un po' perché ci fa spolverare dei ricordi dell'infanzia quella che loro chiamano la milanesa che sarebbe un po' argentinizzato la nostra cotoletta alla milanese però la fanno piatta è la classica fettina impanata che a me faceva sempre mia nonna ma è buonissima ragazzi la fanno veramente bene bella domanda Tania Fuscaldo base Unimog magari avere la possibilità di fare un mezzo su base Unimog però torno al discorso che sono mezzi che anche camperizzati con tutte le problematiche come ha fatto anche Stepsover solo di acquistare i singoli pezzi parliamo di mezzi che superano i centomila euro ma solo di pezzi se poi li compri già fatti dai gioielleri tedeschi parliamo di trecentomila cifre che non tutti si possono permettere perché se tu hai la possibilità di spendere centocinquanta duecentomila euro devi avere anche qualcosa da parte per poter partire Antonio chi lo può fare ciao ti salutiamo ciao Antonio come stai sta di bene Umberto dice ciao Francesco mi hai pensato di portare la mamma di Sara e guarda la suocera è andata a dormire posso rispondere ora è la numero uno come suocera porchettaro sono d'accordo patrimonio che stava in mondo sì quello te lo sottolineo anche io Guinga conferma quello che dice Tina buona strada in Spagna non è una piccola esperienza ogni esperienza è grandissima quindi fate buona strada buona strada e buona vita a voi ragazzi dopo due ore siamo ancora mille neanche l'ho visto ecco siamo scesi a novecento siamo scesi adesso troppi per noi ragazzi noi siamo pivelli sul canale Guinga dice hai ragione in viaggio a Gemma e il cardano ok ma pensate di tornare in Cile assolutamente sì Demetrio perché la nostra idea è di dedicare veramente tanto tempo alla zona nord Cile Bolivia e Argentina io sepo tutto bene ne vedremo delle belle come si suol dire perché ci sono dei passi fuori di testa con la moto arrivi a quote tipo Monte Bianco 5.000 metri tipo Limalaya tutto sterrato e paesaggi lagune salate bellissimo Paolo saluti da Camerino Camerino un grande abbraccio grande grande abbraccio Giuseppe Franzetti ci ricorda che ci aspetta le lasagne ci ricordiamo anche noi Tina grazie a voi la vostra esperienza condivisa con noi tra qualche giorno partiamo in Spagna in moto bravissima Tina la spiancia bellissima Omar Verderame che dice però se fate un viaggio a un mezzo a quattro ruote rischiate di essere in tre non dipende Omar non lo sappiamo Morris Morello ecco hai svelato la moto Morris quindi qual è la moto? ciao ragazzi siete il numero uno a pepiaggio Rossano Tombesi ciao Rossano come stai? ciao ciao Rossano ciao Pamela ciao le bimbe vai di Giapple te che si rompono Marco hai ragione ma io sono un fan delle giapponesi il problema è che le giapponesi bisogna parlare con i tecnici del Giappone cosa gli è successo a livello Honda Yamaha non producono quasi più nulla dal mio punto di vista cioè si sono un po' se guardiamo le altre case Ducati KTM BMW cioè ragazzi si stanno impegnando la Ducati ha lanciato dei prodotti eccezionali la KTM Irem bisogna riconoscere che Yamaha non so cosa ha fatto ha lanciato la TNR 700 l'ho anche valutata il discorso della TNR 700 è che in due carica non va bene me l'hanno anche sconsigliata il problema sono io esatto bisogna lasciarla a casa Simone Stefania grazie mille controlliamo ma non c'è bisogno di controllare grazie mille Mucas grazie grazie l'ho detto l'unica cosa che un'altra cosa che bisogna devo dire una cosa è importante la moto che prenderemo per l'Italia deve essere anche una moto di facile rivendibilità perché il lavoro duro lo lascio fare alla Tenerona che sarà sempre in giro per il mondo fino a quando resiste spero che resista a lungo la moto in Italia non sappiamo di questa vita quello che faremo quindi deve essere anche una moto che devo vendere con facilità non l'acquisterò nuova assolutamente perché non voglio spendere tantissimo deve essere nell'arco dei 16, 17, 18 mila euro quindi proprio massimo massimo quindi ragazzi vabbè non ne parleremo trasforma un mezzo militare poca spesa tanta resa poca spesa ragazzi trasforma un mezzo militare come quattro ruote al credo sì poca spesa tanta resa non credete a quello che vi dicono nei social non è proprio poca spesa se camperizzate un mezzo serio solo di impianto elettrico si spende 20 mila euro ragazzi non pensate alle cavolate non credete alle cavolate già per il ritorno fate una tappa a Versailles per la sala bellissimo intanto ho fatto preparare la stampa ma un bel ciao Piaggio ah tu forse ti rivolgi ai Miral e con il ciao Piaggio l'avevo dura a caricarlo come lo carichiamo noi e poi poi onestamente mi piace la moto Johnny Bell un saluto a Israele la carne ok ma i tramezzini anche i tramezzini sono buoni qua non scherziamo sono buoni ha poi una caratteristica li fanno a tre strati diversi strati no tre strati non esiste a due strati anche quattro comunque non esiste a due strati cambiereste quel Plexiglas sì l'idea di portarmelo dall'Italia perché qua l'ho già detto nei video i ricambi per le moto costano tantissimo e 30-40% più dell'Italia non si trovano si trovano in Cile in Argentina non si trova nada l'idea appunto di portare ricambi non solo del Plexiglas voglio sistemare la moto devo portare il supporto il copolino devo smontare tutto l'anteriore solo il supporto costa 290 euro in Italia in Cile me ne hanno chieste 400 più IVA quindi mi son detto deve resistere la Tenerona l'ho un po' sistemata la meglio poi quando torneremo qua torno con tutta la roba ci farò un video dedicato magari la sistemiamo insieme Andrea dice ma Yamaha Italia non vi ha ancora contattato ragazzi non ci ha contattato nessuno tante persone ce lo scrivono ma per quello che fate sarebbe una pubblicità enorme anche perché ripeto in Italia non so se esiste qualcuno che fa una cosa del genere ma io non la contatto io sono fatto così non mi importa nulla controllate anche perché voglio essere libero perché tanto se ti contattano poi sei sempre un po' di parte io quindi non voglio essere va bene noi la pensiamo così Pausto Satti bene allora GS sempre tagli fra in Italia avete vinto e alloggio dove andate e infatti confidiamo anche in questo no ragazzi non date riletta però incontrarvi è sempre un gran piacere pensate ad un furcone camper ci abbiamo pensato però anche qua vi ripeto prenderlo ben messo fatto bene per poterci vivere ragazzi non per fare un viaggio di un anno per poterci vivere guardate Steps Over che loro hanno fatto veramente tanta roba ma quel mezzo ragazzi costa solo per pochi Alessio deve lasciarci tra cinque ore si sveglia ci dispiace Alessio trattenerti troppo quindi buona notte e buon lavoro domani Francesca e Sara sponsor guard due test uno per uno il problema Fabio Bazzano è che Sara non prenderà mai la patente della moto ce l'avete chiesto in tanti allora nella vita ecco fatti un po' indietro che così prendo un po' di luce anch'io come quelle della televisione che hanno la luce in faccia dì la verità allora nella vita mai dire mai per il momento no ragazzi non per il momento mi devo fare le gambe di cipollini per tenere la moto non mi sento capace e forse in fondo in fondo non è neanche una mia passione ragazzi credo non ci sia niente di male però mi piace stare dietro Sara mi piace osservare mi piace andare in moto però non guidarla però mai dire mai nella vita andiamo avanti ciao ragazzi sei sempre numero uno Brigida Di Maio Sara decide di guidare in una moto tua ti cambia la vita ecco ti abbiamo risposto proprio ora ti abbiamo risposto senza saperlo lo so lo so chissà chissà allora Wingman ti dice ti mando subito una foto guarda qui ho una cultura impressionante mandami che mi piace tantissimo questa cosa quindi mi piace condividere mezzi a quattro ruote per me dai Sara buttati non lo so ti mancheranno i cani assolutamente no lo spero si scrive no i cani Luca Timpanaro BMW avvento dai che piano piano ci avviciniamo ragazzi due moto il top sono io primo a dirlo perché una moto per come facciamo noi è veramente difficile purtroppo la superteneree fuori produzione a Yamano a un moto esatto condivido Morris condivido al cento per cento Walter dice in camper andrò io che sono anziano non sei anziano Walter primo Ivana grazie Walter Brevi in camper andrò io che sono Walter ciao Walter come stai no per adesso Walter condividiamo in moto infatti dicono in un video eravate andati a vedere in camper in Italia le vostre facce alla fine erano esplicative dei costi a cui sareste andati incontro c'era anche un'altra motivazione ma poi parliamo di mezzi che non sono mezzi overlande quelli che guardavamo noi esattamente c'era anche una motivazione che forse non erano così adatti per quello a cui volevamo andare incontro qua si andrebbe bene con un Toyota Hilux camperizzato però la cellula è piccola e fai fatica a viverci dentro come al tempo stesso come dice anche Stef Sovere Simone che un camion ha il suo incontro però guardiamo sempre nella lunga distanza pensate a vivere 365 giorni all'anno tutti i giorni quando piove quando è bel tempo di notte di giorno sempre però Massimiliano dice se passate dal Trentino deve essere strutturato bene alloggio alloggio gratis passeremo di sicuro dal Trentino il Trentino è anche caro quindi grazie assolutamente Sara ti taglierai i capelli forse un po' dovrei tagliarli dovrei tagliarli adesso vediamo la sposa che è anche peluchera perché non hai chiesto la sposa fai tagliare i capelli a Sara la sposa la sposa nonché mia irmana mia sorella è anche peluchera quindi è parrucchiera è parrucchiera Sara come la sa Joe si vado un giro in Puglia precisamente sul Gargano Pasquale io sono con la famiglia sono andato sempre in Puglia la conosco perfettamente dall'inizio alla fine è bellissimo è cambiato ultimamente perché il tacco non è più come vent'anni fa ma è cambiato anche in meglio solo che c'è tantissima gente il tacco il gargano è un po' sopra scusate saluto ciao Dani buonanotte a noi Sara piace così Maria Estrella Malaga un bacione Giacomo Fraguti ciao ragazzi tornate dagli elementi di tennis in Italia un piaggio forte o similare da camperizzare progetto un sidecar per la Tenerona ne ho vista una e la camperizzazione qua costa sui 15 mila euro ci dice dice di non tagliare la coda e ci invitano al palio di Siena magari ragazzi molto gusto venite a Siena per un palio magari 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 con il mezzo a quattro ruote dopo un giorno siete fermi una moto a testa e via è verissimo la mia testa non finché si può viserà Dario Simone anche noi siamo parrucchieri a Firenze allora verremo da voi a me taglia capelli Sara comunque ragazzi per voi pomeriggio non chieda mai Nicca hai ragione non so se l'ora è stata sbagliata magari ma anche perché è un'ora e 45 che stiamo in diretta l'abbiamo annoiato ragazzi scusate cercavo personale bravo a te ciao Roberto buonanotte Roberto grazie 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 muchas gracias se amare avesse continuato a produrre le avrebbero continuate a vendere senza ombra di dubbio anche secondo noi o qualche miglioramento e anche noi utenti l'avremmo potuto aiutare però va bene così andiamo a letto domani ciao buonanotte guarda voglio salutare questo pecora roscia perché mi piace il nome prima cosa mi trovo perché quello che dice c'è no ma è una questione di luce abbiamo cercato di migliorarci come qualcuno a pomeriggio 5 allora se volete visitare Verona mi casa grazie di cuore veramente Giorgio di a luci sì che dovrà sforbiciare Giorgio sarebbe il marito Giorgio Bianchini lo sposo è il futuro marito della sorella Marco Marchetti ciao ragazzi siete in gamma mamma non hai più video della Scozia no li ho cancellati Marco fu un errore no non è fu un errore perché avevo la musica erano i primi video che facevo la musica non era era con il copyright quindi non potevo monetizzare e poi nel canale è meglio che non ci sono video che non praticamente che non rispettano le norme di YouTube e poi erano montati come la vecchia maniera volevo farli meglio e forse magari torneremo in Scozia un giorno li faremo fatti bene Lucky Explorer salutoni da Loreto un abbraccio grazie che sta leggendo i vostri libri ma tendo un super libro che mi pone scritto da Francesco Wingman dice quando sarete in Italia ragazzi Giacomo non lo sappiamo l'idea forse qualche mese forse fino ad EICMA perché mi piacerebbe andare in fiera perché me l'hanno chiesto in diversi e anche di aziende e vediamo anche io wingman dice dato che siete in Italia non neanche video Stefania Grazie di Cuore no 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 ci saranno i video e come ci saranno assolutamente ma no poi torno con la mia per quel poco tempo che trovo in casa magari qualche video vi pone da Gracia ma poi se facciamo un giro dell'Italia facciamo anche condividiamo anche l'Italia con che campiamo se no bisogna lavorare per forza di cose vi aspetto in Valle d'Aosta magari verremo di sicuro anche in Valle d'Aosta siamo già ragazzi con la Benelli si possono fare viaggi come vostri cosa ne pensate assolutamente che con la Benelli si può fare un viaggio però ricorda una cosa Luigi che noi non viaggiamo soli ma siamo in due carichi e quando inizi un po' a prendere una moto un po' più piccola tipo una Tuarega 660 una Benelli 700 una Tenere 700 io non ho esperienza diretta ho sentito chi le ha usate entrambe e tutti ci dicono che sono moto che vanno bene per viaggiare da soli nel senso capiamoci bene anche per viaggi in coppia carica va bene però magari viaggi più corti per un viaggio come il nostro deve essere una moto un po' più resistente per sopportare il carico se viaggiassimo con due moto separate io sarei il primo a prendere una moto 700 una moto un KTM una moto semplice anche se avesse la catena non fa nulla però una moto leggera perché ti diverti molto di più viaggi più in sicurezza e arrivi ovunque ma però ti diverti anche con me ma come no dai sicuramente nessun problema buonanotte Tiziano ciao saluti a Senigallia un abbraccio un abbraccio enorme Fabio Sara se tu prendi la moto Francesco guarda Fabio non faccio cittacchi perché meglio che io la moto il titolo della canzone della sigla Beating Arts si chiama Beating Arts Beating Arts Beating Arts buonanotte Tiziano il titolo della canzone eccola che programmi usi montare il video uso Final Cut su Mac grazie per portarci con voi grazie a te Enrico un saluto a Porto D'Ascoli un abbraccio Giovanni Galli ti dice Sara non lasciare la narrazione Francesco Laguila Giovanni Galli non è l'ex calciatore ciao ragazzi se passate da Parma Vito Alloggio grazie di cuore Winga dice vai Piemonte anche Piemonte faremo Piemonte lo dobbiamo far bene molto bene Verle Langhe saluti a Porto D'Ascoli che nomi questi nomi ci fanno un attimo tornare indietro nel tempo bellissimo Sara non è necessario andare con una moto di grande no assolutamente sarebbe meglio però io questa cosa ve la devo svelare perché io sono sono stata imbramatissima col motorino di mia sorella io ho provato a portare un ciao e lo guidavo però mi sono anche sfacelata davanti al vigile di Corridonia che fece finta di non vedermi quindi ragazzi però i progressi si fanno nella vita si migliora quello che sto cercando di fare anche in questa esperienza di vita di migliorare me stessa di migliorare il mio approccio con la vita i miei i miei lati negativi quindi si può migliorare anche nel portare la moto eppure la bicicletta la portavo bene però Ramones Ramones notte 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 radame questi giorni questi giorni ho fatto col da monette me coglioni con l'agnello con la lombarda a sentire che freddo e passi si fa impallidire si Faber qua è il sogno di tanti motoviaggiatori considera che dal passo che abbiamo fatto noi 3.300 metri l'osso libertadores a salire sono tutti i passi vicino ai 5.000 metri siamo già stati una volta nel 2016 non in moto ma in auto è una sensazione stranissima e non so anche in moto così pesante come reagirò perché quando superi i 3.500 4.000 devi fare attenzione perché manca l'ossigeno la moto non andrà più io mi davo un'auto 1.600 benzina è come se guidavo un 700 perché il rapporto aria ossigeno benzina per quanto sono a iniezione elettronica la compensazione è comunque difficile ma è difficile restare in piedi perché ti manca l'ossigeno a te persona però è sono dei posti io spero di condividerli nella maniera migliore portare a un controllo migliore perché sono i posti più belli al mondo secondo noi Dado Tratto ci dice se passate da Parma vitto e alloggio turistico sugli appennini tu segna tutto segna no ragazzi ma Sara è così bello abbracciare il proprio marito in zella la moto essere in tutt'uno Tania lo vedi vedi è così anche per te bel messaggio bellissimo ragazzi a tutti quelli che sono leggermente ho scoperto l'occio grazie in tutta Italia vi aspetto in Umbria Massimo Pizzotti Umbria ci sono stato in moto penso un milione di volte Walter Brevi dice lo puoi inseguire con una e-bike in effetti in effetti Armaduc grazie di cuore Omar grazie di cuore Omar vi aspetto in Sicilia due passi dall'isola Omar magari ci sentiremo noi non sappiamo se andremo verso nord o verso sud ma forse però la Sicilia è nel è nel foglio diciamo così avere due mesi per stare in Sicilia per noi è un sogno magari ci vedremo giù Pausto buonanotte buonanotte Repubblica di San Marino sì assolutamente verremmo anche lì ci sono posti bellissimi ti aspetto la nostra Alessina Alessina già abbiamo fatto Antonia bellissima al mare scusatemi pieno oceano atlantico il posto è cresciuto dal lavoro di tanti pescatori questo forse aveva scritto ah ecco in Argentina ci sono tanti marchigiani Paolo Mergenni quando ultimate il video del viaggio in Marocco che dire ho ancora tre terra di roba da montare del viaggio in Marocco e hai ragione al 100% non posso che chiederti scusa comunque Fabio Guis Morroni dice ci sono ci sono tante comunità marchigiane lo abbiamo visto ce ne siamo resi conto siamo passati per Raffaella c'era addirittura ci hanno detto una cospicua comunità maceratese che non abbiamo fatto in tempo ad incontrare ma ci ripasseremo quindi è verissimo ci sono abbiamo passato tantissime zone industriali in cui sulle insegne delle aziende c'erano addirittura proprio cognomi che conosciamo benissimo della provincia di Macerata quindi è stato emozionante Alex vi aspetto in Valle d'Aosta segnato anche qua Stefano un saluto a Riccione sullo Sperone d'Italia vi aspetto con il mio gruppo sarà un onore Pasquale Ettore Bambilla ciao quanti pagini in radio mamma mia non ci pensiamo questa cosa sembra una banalità però già ho trovato il parcheggio per la moto dove locarla devo lavarla devo vedere cosa lasciare qua cosa riportare Meligunico dice mettete like grazie grazie mille del pensiero che hai avuto fino a che punto vi rendete conto di quante patie e sincero affetto siete riusciti a creare in poco tempo Andrea per noi è un onore veramente c'è dietro tantissimo impegno quello che spero si percepisca che c'è appunto tanto lavoro che però lo facciamo con passione e che siamo due persone normalissime che più normali tanto normali Svizzera tanto normali tanto normali io non proprio normale Svizzera assolutamente sì siamo passati che gli vuoi dire alla Svizzera qui si vantano di assomigliare alla Svizzera qui non lo vedi questo paesaggio sembra la Svizzera ci dicono poi mototristi in viaggio ma non avete mai visitato la Giociaria qui ci dovrebbe dedicarsi tempo la Giociaria ci sentiremmo anche a casa Ivano lo sai non la conosciamo bene Faber dice se fate Piemonte le Langhi il Regno per Sara cibo vino tutto al top oh my god Maurizio ciao ma i passi a Cimena sono sterrati sì Maurizio infatti devo sistemare la penerona alleggerirla ancora un po' ma sono al limite proprio con le gomme nuove vado meglio e con l'esperienza cerchiamo speriamo non succeda nulla uno è asfaltato il passo di Giamma è più famoso che è bellissimo gli altri sono tutti sterratoni Svizzera siamo stati e la Svizzera che vuoi dire Armadouk dice Sara ti si atrofizza il braccio a tenere la GoPro e mi alleno la fizione della moto è ancora originale la moto è tutta originale l'ho aperta per la prima volta a 100.000 km per registrare le valvole e non le ho le ho anche toccate perché stavano ancora in tolleranza quindi la moto non l'ho mai aperta cioè non ha fatto nulla di nulla per favore mi salutate mia moglie ciao Laura da Nevio mi sono perso qualche puntata non so cosa ma siete una coppia in gamba e sapete affrontare l'avversario speriamo non si guarda mai indietro augure sono d'accordo Franco dice la prima cosa che farete appena tornati in Italia ne dobbiamo fare tante Franco ma talmente tante che non sappiamo quali faremo per prima perché alcune sono cose da sbrigare che dobbiamo per forza fare e la prima cosa che faremo la prima cosa che faremo è abbracciare i familiari quello sì però ce ne sono tante da fare tante Sergio dice sotto i mille cc in due così cari non si può andare Sergio condivido il tuo pensiero Armaduc grazie ancora grazie buonanotte Simone noi abbiamo preso tanti spunti su tutti i viaggi grazie è un onore vai con me non sbagli sicuramente Carlo Manozzo e forse c'è il seccato Mario Mario ma tu sei Mario nostro certo ciao a Monte Cassiano Mario è l'artefice dell'acquisto della moto ci lasciamo per una curiosità avevate considerato anche l'Asia naturalmente per Brescia allora Walter grazie di cuore assolutamente ho considerato tutti i continenti perché è stata scelta in Sud America per un discorso semplicissimo che magari tanti moto viaggiatori tanti overlander non dicono in Sud America dal nostro punto di vista come continente a livello di naturalezza di natura naturalezza spagnolo ecco lo vedete secondo noi per quello che abbiamo visto in giro per il mondo è più bello che possa esistere perché c'è tanta cioè puoi trovare il Cile ad esempio ha tutte le stagioni perché è lunghissimo è bellissimo però una cosa importantissima che molti non dicono viaggiare in Sud America è il continente più semplice con un mezzo proprio mi spiego meglio considerate che voi quando viaggiate con un mezzo Targa Way che lo esporta è fuori dall'Unione fuori dall'Unione Europea c'ha mille limiti come noi come noi persone abbiamo quindi quando andiamo dobbiamo fare l'immigrazione per noi l'immigrazione per la moto viaggiare in Sud America è il posto più semplice perché in tutti gli stati di Sud America non serve un visto non serve il carnet di passaggio per la moto anche se nel sito della Farnesina dicono che è consigliato il carnet di passaggio ma non ve lo chiedono nessuno assolutamente e altra cosa tu puoi uscire da uno stato facciamo un esempio ti trovi in Uruguay hai tre mesi di tempo come persona turista come turista dopodiché devi uscire per forza di cose puoi andare un giorno in Argentina e il giorno dopo tornare in Uruguay e si riazzera il tempo tutto questo per dirvi che senza visti senza rispettando solo i classici tre mesi per i turisti all'interno di uno stato tu puoi stare in Sud America anche tutta la vita però è così cosa che invece in Asia è molto complicato quando superi già Walter lo sai meglio di me quando superi Walter lo sai meglio di me perché va a vivere famiglia intanto ciao buonanotte quando superi la Turchia l'Iran è un mese di tempo se esci dall'Iran poi devi chiedere il visto e non è così facile perché magari devi tornare all'ambasciata italiana in Australia ci sono problematiche che devi lavorare per stare più tempo quindi le Americhe ma soprattutto su America perché già gli Stati Uniti con il visto è un po' più complicato le Americhe sono i luoghi più tra virgolette semplici per poter visitare viaggiare come stiamo facendo noi con poco tempo perché se viaggi con tanto tempo se viaggi con poco tempo l'Asia va benissimo ma però partire dall'Italia andare fino a Singapore per farvi un esempio lo devi fare con una certa velocità nel senso io in dieci anni voglio fare questo viaggio non lo puoi fare perché poi entrare e uscire dai paesi è complicato e altra cosa se vai è difficile tornare indietro mentre in Sud America puoi cirovagare senza avere un senso e non hai nessun tipo di problema Augusto intanto grazie vi auguro avrete tantissimi sponsor quando tornerete in Italia grazie grazie Paolo Affonsili ragazzi Paolo Morfeo devi rispondere a Morfeo ragazzi sono due ore 700 siete ancora online che passa siete fuori di testa io già mi vedo perché Francesco sistema e si prende cura della moto di Sara quella immaginaria ecco Paolo un saluto in Italia l'avete affittata bella domanda allora questa è un'altra cosa e ci abbiamo pensato in tutto questo tempo siccome dovevamo tornare già lo sapevamo dopo otto mesi per il matrimonio della sorella ci siamo detti proviamo a fare questa follia vediamo come va Fabio intanto grazie Fabio Bazzana grazie mille muchas gracias cioè per il carattere che ho sono voluto entrare cioè questo cambio di vita l'abbiamo fatto con cautamente nel senso che volevo un attimo capire la situazione se è fattibile se non era fattibile da qui poi prendere decisioni più importanti per vedere nella lunga distanza tipo anche fra due o tre anni passare un mezzo o quattro ruote non lo sappiamo speriamo incrociamo le dita ragazzi il nostro motto è poter non non voglio diventare più ricco del cimitero sulla mia vita voglio solo cercare di prendere il massimo della vita con tutte le difficoltà annesse e con tutto l'impegno possibile posso garantire che dietro c'è tantissimo impegno ma tantissime difficoltà che devi in qualche maniera sapere affrontare perché ci sono giorni che ti abbattono però Meligunico dice visitate Corridone zone limitrofe per tutti i rider in ascolto verissimo questi tre supereroi vengono da una terra meravigliosa visitata visitata questo weekend lo sapevamo che facevate Marche e Abruzzo siamo felici che evidentemente vi siete trovati bene speriamo che i nostri compaesiani vi abbiano trattato bene come meritate grazie grazie mille ho appena portato un caffè grazie di cuore buona strada per Alberto che va in Turchia Turchia numero uno noi ci dobbiamo tornare con tanto tempo abbiamo visto veramente poco saluti a Como mamma mia che spettacolo Fabio Bazzana ragazzi vi ho offerto però vi voglio su un moto mediterraneo Sandra grazie Fabio Sandra ci ha offerto che è se non sbaglio mi ricordo è sudamericana è argentina Caffè e Alfa Cor ho apportato Caffè e Alfa Cor Besos Besos Austed poi Antonio avete notte ragazzi notte Antonio Antonio ok allora ciao Francesco come già detto vi ospito voglio dire qui da me all'Osteria grazie di cuore grazie c'è anche il salone del camper tempo libro a Parma lo sappiamo benissimo Ferruccio ciao Francesco sono un tuo ex collega di lavoro Ferruccio ciao Ferruccio come no mi ricordo benissimo la prima cosa che prende al ritorno in Italia un piatto di vincicrassi Ferruccio numero uno tra l'altro quello che ha detto Meligunico grande Ferruccio prima ciao Ferruccio un grande abbraccio quello che ha detto Meligunico prima visitate anche le nostre terre voi che magari venite da fuori e non dimenticate di assaggiare i vincisgrassi che potete anche pronunciare vincisgrassi no vincisgrassi però Faber dice viaggiare su due ruote c'è il massimo io Faber non ci devi dire nulla io lo condivido al cento per cento perché viaggiare su due ruote su due ruote è bellissimo però capisci anche che quello che stiamo facendo noi portare l'attrezzatura da lavoro portare l'attrezzatura da campeggio su una moto per due persone è veramente nel mondo non lo fa nessuno un motivo ci sarà però noi non avevamo alternative e a me la moto piace tantissimo che che te lo dico a fare Gio due ore di live andate neanche la ci dice dove sei andato Mauro Gassetti neanche la corazzata potiomkin Mauro Gassetti zì se ti conosco un po' per me c'è un percento GSC Mauro ricorda che dobbiamo fare ancora un giro in bici Gio lo faremo eh Gio ricordati che insomma corazzata ti aspetta ecco Black Mistra buonanotte buonanotte stasera grazie per la compagnia Marco Seva grazie di cuore grazie a voi grazie a voi ciao da Tokyo Tokyo numero uno siamo stati siamo stati in viaggio in Giappone che onore uno dei posti più belli al mondo se non siete stati in Giappone andate perché è uno dei posti più belli al mondo i rifugi da fare Sergio verissimo mille cose ma le quattro ruote dice in due no dai andate benissimo così andiamo avanti così infatti Wingham insomma avete la testa sulle spalle si vede lontanissimi grazie di cuore troppo buono grazie a te ci siete voi stasera dovevamo battere Temptation Island stasera che finisce a mezzanotte quindi dobbiamo niente bisogna andare avanti bisogna andare avanti ce la mettiamo tutta quando siete a casa datemi una voce per accordi ecco Mario Mario non ti preoccupare che non mi dimentico di te ti vengo a trovare subito Sergio grazie siete ancora qui perché condividete le vostre esperienze con semplicità e senza doppi fini quindi non cambiate mai Sergio grazie un messaggio che apprezziamo tantissimo Nicola Buonanotte Buonanotte Nicola donne più belle in Sud America dove? ecco bella domanda questa bella domanda Livio intanto grazie grazie di cuore Livio muchas gracias donne belle io quello che posso dire delle donne secondo me le donne sono belle ovunque quando una donna è bella è bella ovunque nel Sud America c'è un po' il modo di pensare che sono più belle di quelle italiane io non lo condivido questa cosa apro una parentesi la chiudo donne non vi rifate più rimanete naturali come siete chiudo la parentesi va beh poi comunque la vostra posta è il vostro essere vero e spontaneo sono sempre con voi sulla tenerona Piero grazie grazie la prossima volta ti faccio un po' prendiamo un'altra moto Ettore l'abbiamo detto prima poi ci sarà un video dedicato domani sono di riposo potete fare bene allora stai con noi a gusto Livio però ci dice che vi aspettiamo a Cocconato d'Asti non siamo mai stati verremo noi di Monferrato bellissime zone comunque siamo passati più di una volta ma non le conosciamo bene bene Ivano vero le marche sono bellissime non si pubblicizzano abbastanza però meritano tanto meritano tanto e si può crescere tanto sono un po' come la Toscana però la Toscana è più ricca e più curata Alessandro Alessandro Dattilo ciao la complicità grazie un abbraccio Alessandro Alessandro elemento necessario per vivere verissimo verità assoluta lo dice lei no è vero però io lo penso e io che sopporto allora qualche cosa no no grazie Giuliano grazie Ivana buonanotte buonanotte ragazzi continuate così ragazzi non cambiate mai domani non si può fare un'altra live domani no perché al turno serale comunque no no ciao Rosario sì Tokyo top avete in programma giro di presentazione di vostra esperienza Sergio non abbiamo fatto noi siamo un po' anomali non so come ci vedete voi non abbiamo fatto nulla di nulla siamo partiti per senza dire nulla nessuno senza fare niente di senza fare il classico programma che fanno tutti e ripeto forse a livello commerciale è sbagliato perché la maniera per farsi conoscere per avere più roba però io voglio andare nella mia direzione con le mie forze con le nostre forze e se siamo capaci se in qualche maniera la gente riconosce che c'è impegno se qualche azienda si fa avanti la considereremo ora voglio essere molto saccente sono io che decido se prendere quell'azienda o meno qualcuno mi manderà a quel paese ora però li sono fatto così quindi devo andare avanti per quello che penso finché riusciremo a mantenerci si poi motorbike ciao belli ci vediamo in sudamerica ciao Michele ciao Alessia motorbike magari li conoscerete insieme hanno un canale youtube pure loro andatele a vedere loro motorbike Michele ragazzi ha fatto il giro del mondo veramente in moto ha viaggiato molto più di noi e ci dice ci vediamo in sudamerica e ora però ha un defender quindi è passato le quattro ruote quindi proviamo a fare anche una comparativa tenerona defender vediamo come viene fuori Simona ciao buonanotte buonanotte dice grazie alla prossima la Sabi chiede dove lasciamo ah Joe la lasciamo Joe la lasciamo a Montevideo da un praticamente un meccanico di moto che come lavoro oltre a fare il meccanico praticamente ha un parcheggio per tutti i motoviaggiatori perché la maggior parte dei motoviaggiatori sceglie l'uruguai in quanto puoi lasciare la moto per 12 mesi cosa che non è così in Argentina 8 mesi tutti gli altri stati per 3 mesi in Cile 3 mesi quindi la maggior parte dei motoviaggiatori che decidono di fare in più tappe il Sud America o comunque questa zona del Sud America lasciano molto spesso la moto qui a Montevideo da questo ragazzo con suo padre noi se guardate poi magari ci farò un video dedicato abbiamo fatto un percorso ad Anello siamo partiti da Montevideo siamo tornati a Montevideo siamo ora non a caso proprio perché in Uruguay magari torniamo a casa abbiamo un problema di salute i nostri genitori hanno un problema di salute e ragazzi se non possiamo tornare io vi ricordo questa cosa nelle difficoltà di questo viaggio l'Uruguay ha 12 mesi per lasciare la moto nel permesso di importazione superati i 12 mesi ogni giorno ci sono 20 dollari di multa superati i 30 giorni c'è il rischio c'è il rischio che ti sequestro una moto e non te la ridanno più a vita in un certo senso passati questi 30 giorni inizia una procedura che è una sorta di procedura penale per cui bisogna fare attenzione Walter grazie grazie un abbraccio a te a tua moglie belle le marche mio papà è nato da Ancona ha vissuto a Montavio grazie tornate in Italia in sella in italiano moto Guzzi V100 Mandello è una bellissima moto però la vedo poco avventure solo per questo motivo se no è bellissimo Francesco grazie di cuore muchas gracias anche a te Francesco Giulio potrò mai tenerlo difende tanta roba e difendere meglio però e lasciamo perdere motorbike Cristina un saluto dalla mia mamma Pia di 82 anni Pia un abbraccio enorme Cristina quando leggiamo queste cose che noi abbiamo il canale lo diciamo tranquillamente il 10% di persone che vedono i nostri video hanno più di 70 anni è un enorme onore è un onore enorme Pia un grande abbraccio a te e a Cristina 82 anni tanta roba tanta roba poi Natalger dove l'hai letto Paolo Montanari sì Natalger 2002 quella nuova mi piace tantissimo mi piace tantissimo però vorrei rimanere nel due cilindri Maurizio no Sara sono otto che cos'è che ho detto ho sbagliato sono otto ricordamelo Maurizio Maurizio infatti ho detto una cazzata che ho detto che ho detto Paolo Paolo è un po' che non vi seguo come state Paolo perché stiamo abbastanza perché queste cose Paolo comunque stiamo abbastanza bene ci manca un po' il caldo voi mi metterete a ridere perché a casa ne avete anche troppo noi abbiamo fatto veramente questo percorso dedicando quattro mesi in Patagonia quattro mesi in moto in Patagonia ragazzi non si augura nessuno la conosciamo benissimo però ci manca un po' il caldo però siamo bene Ario devi venire in Patagonia qualche problemino di troppo dice però risintonizzato per il 25 prova la Niken due o tre ruoli per trovare Tommaso nella diretta ci voleva anche lei la Teneronna protagonista come noi la Teneronna sta in garage qua sotto è inguardabile da quanto è sporca necessitiamo sbaccare per vederla dobbiamo scendere io non la posso neanche lavare qua mettetevi nei panni è una cosa che voi non sapete qua non c'è un lavaggio come da noi con la classica lancia con il gettone lo trovi forse a Santiago del Cile o forse a Buenos Aires qua a Montevideo devo informarmi perché è una capitale ma devi lasciare la moto e te la devi far lavare cosa che per me ragazzi è impensabile no Maurizio diceva i video pipponi sono otto quelli che è arrivato stasera Francesco Wigman infatti ci ricorda erano otto erano arrivato a sei scusate scusate li faremo li faremo direi Beppe dice la 7 significa che qualcuno allora Beppe ci ha contattato Maurizio Sottocorona no Paolo Sottocorona tra i tanti nomi Francesco sbaglia pure quello di Paolo Sottocorona è stato gentilissimo ci segue da tempo non lo so ha fatto tutto lui ci fa piacere tornando al discorso di prima siamo stati contattati da lui ci ha detto solo se possiamo inviare delle foto caratteristiche perché si è appassionato della nostra storia ci fa molto piacere e ragazzi noi non abbiamo chiesto nulla no e poi è lui che decide cosa dire noi non sappiamo nulla non sappiamo nulla buonanotte grazie buonanotte scusate ragazzi Massimo grazie valte otto più promessi promessi ragazzi il Nord America ovvero l'ASCA può essere un progetto futuro in pensare assolutamente sì però con calma con calma nel senso che il prossimo anno vogliamo dedicarlo alle zone sperdute saranno ancora più sperdute speriamo che la tenerona tenga e perderci sulle ande perché ci sono dei posti fantastici quindi dobbiamo viaggiare con calma dobbiamo lavorare considerate che noi 70 lavoro 30 viaggi quindi dobbiamo per forza andare piano ma ci piace questa cosa ci salutano da Torino vi aspettiamo a braccio aperto ci dicono grazie grazie di cuore un abbraccio vero a voi Massimiliano Lenzi buonanotte buonanotte Francesco è chiaro moto da viaggio sicura solida con il cardano e che sia rivendibile ce n'è solo una che ha un segno circolare Antonio Piselli non posso che darti ragione ciao buonanotte dopo questo ciao buonanotte Tommaso da Bergamo te la lavo io un lavaggio auto lavaggio sotto casa Tommaso quanto c'è mancato magari lo condiviso su una storia se vedi come mi hanno lavato la moto con lo spazzolone una scopa con la classica spazzola beh questo in Cile stavo male solo che non avevo non avevo alternativa però in Argentina due ragazzi a cui non potevamo dare un peso di fiducia perché insomma se guardavate l'ambientazione ma lo condivisci un attimo e invece sono stati bravissimi però non hanno l'attrezzatura loro lavavano con il classico compressore piccolino da 3 litri che poi immergevano la pistola nel sapone e spruzzavano senza pressione che per carità che per un lato è meglio perché il getto a pressione non fa bene alla moto però il risultato finale ragazzi la moto è pulita per modo di dire Adriano Adriano ciao Adriano Adriano Mora Francesco la mia Tiger 800 ciao pochi mesi fa ho provato i 900 ed è cambiato molto immagino che in mele due abbiamo ancora più coppia a una prova la farei Adriano la Tiger è una grandissima moto una grandissima moto veramente buonanotte Walter Alberto dice se venite in Trentino con un'altra moto vi ospito a casa mia cioè con un'altra moto no la Tenerona la C4 ah ok cioè pensavo che non accettassi la Tenerona no non l'accetto l'accetto buonanotte ragazzi buonanotte buonanotte grazie Alberto grazie ragazzi siete ancora a 600 che facciamo qua andiamo avanti sicuramente sarete più avuti in qualche trasmissione troppo buono San Piero in che periodo tornerete in Italia l'abbiamo detto torniamo l'8 agosto per il matrimonio della sorella che si sposa il 3 settembre settembre ti è piaciuta quella in vetrinetta non sappiamo è Tommaso che aveva detto non l'ho letto prima ho visto Marco comunque dice mi sono dimenticato di chiedervi i tre posti più belli che finora avete visto ah questa bellissima domanda ma te li dico te li dico scusate qui viene anche tra non so non so che lingua te li dico al volo Torre del Paine Tredito Moreno e forse metterei dare il posto il terzo è difficile perché metterei un tratto di strada che è l'acqua e brata del Caffajate che la vedrete in un prossimo video è la strada più bella del mondo secondo me questo è sulla carta quello che oggettivamente paesaggisticamente è irresistibile cioè non non si discute il Paine 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 però questo è quello che oggettivamente è bellissimo da vedere e che veramente ragazzi è da brividi proprio perché è una natura quasi eccessiva quindi è come se la mente umana non riuscisse a capacitarsi di quello che vede cioè l'Italia è bellissima ma l'Italia è carente di questa cosa ovviamente per la sua conformazione le Dormini sono bellissime come la Torre del Paine sembrano più a portata d'uomo e questa è una cosa che è quasi demasiado direbbero loro è quasi troppo però questo è sulla carta poi ci sono tanti altri posti potremmo dirvene altri tre che sono rimasti nel cuore per altri motivi che magari non erano di questa sfacciata bellezza però magari le persone che abbiamo incontrato i perri adesso era per scherzare anche i perri però l'accoglienza che abbiamo ricevuto quello che abbiamo vissuto sarebbero da mettere sul podio ugualmente sì assolutamente anche una Wustrom 1000 non sarebbe male rapporto qualità prezzo la Suzuki Wustrom forse tra le migliori moto e anche qua c'è la catena tra quella preferirei l'Africa Twin perché amo Honda però sarebbe comunque un'ottima moto rapporto qualità prezzo anche meglio Ario vorrebbe parlarne davanti a un gustosissimo piatto di tortelli alla zucca anche noi abbiamo mangiato il risotto con la zucca lo tambien lo tambien ciao ragazzi per il vostro video ogni volta è sempre un'emozione unica siete i migliori spero di potervi incontrare a vivo prima o poi se è capitato da Roma grazie di cuore da Roma capitiamo sempre Bruno Angeletti ciao ciao Bruno Saremo Arquata del Trondo fino a metà d'agosto che dite un caffè se riusciamo sarà piacere nostro ragazzi ah se venite addirittura veniamo a Corridonia se venite ragazzi è piacere nostro con piacere il mese di agosto per la prima volta dopo vent'anni saremo a casa si un po' impegnati Mario Prosperi buonanotte ciao Mario mi raccomando Mario vai bravo Alberto che io avevo messo in dubbio che non volesse ospitare la Tenerona mi dice Sara ho pure io una Tenerona viadoro scusa Alberto scusa saluti dal lago di Garda De Senzano vamos fortunati questi posti che suerte i passaggi più bello che ci avete regato finora Lofoten Lofoten sì assolutamente le Lofoten forse si potrebbero mettere tra gli dieci posti più belli al mondo secondo noi assolutamente sono bellissimi veramente ragazzi ma c'è talmente tanto da vedere che è difficile buonanotte San Benedetto del Tronto se è passato questa parte è brutto non mi dire queste cose brutto di pesce oliva all'ascolana oliva all'ascolana lasciamo tempo non riesco a capire non riesco a capire se mi state simpatici o no scusa Mattia ci dispiace Mattia speriamo di sì ragionaci su per la notte non tanto buonanotte ragazzi grazie buonanotte ciao ciao abbiamo capito dai GS Adventure dai Nick che ci siamo Africa Twin con o senza se se prenderei l'Africa se prendessi l'Africa Twin assolutamente senza DCT mi piace troppo cambiare anche se il DCT è una figata pazzesca e la Honda come sempre fa delle cose assurde però cambiare ragazzi mi piace troppo è più leggera la moto e mi piace sentire la frizione mi piace avere la frizione è una mia cosa perché sono vecchio inside sono nato così Minina dice se passate per il delta del Po Ferrarese dobbiamo assolutamente farlo Minina lo faremo di sicuro notte da Firenze assolutamente Francesco se la V100 è poco tra poco arriva la nuova lo so lo so benissimo e bisogna vedere tra poco arriva la nuova Stelvio sì l'ho letto no per dirlo a chi si va bene c'è ragione scusate sicuramente però qua saliamo di prezzo troppo alto non voglio fare una moto che costi 30.000 euro da voi sono le 18 e 15 è quasi ora di cena veramente ragazzi da noi sono le 18 e 20 ragazzi vi saluto è stato un piacere sapete che voi avete fatto quello che noi abbiamo mai avuto il coraggio di fare non vi pentirete mai la scelta Walter grazie di cuore ma comunque Walter noi ci siamo già sentiti più volte vi aspettiamo qua e sono convinto che arriverete ciao Angelo buonanotte buonanotte ragazzi Faber dice se fate il Nord America farete Montana Wyoming Alaska posti che a dire di un amico insieme ai parchi Yellowstone e Yosemite sono strepitosi allora Faber noi abbiamo fatto gran parte di questi parchi non l'Alaska però l'abbiamo fatti nel 2011 in auto e l'America in quelle zone è fuori di testa ma ti dirò di più secondo noi le zone che voglio fare che vorremmo fare l'anno prossimo non sono la meno forse anche meglio e non sono turistiche il fatto è che le Americhe intese come Nord e Sud chiaramente sono a tratti molto simili però c'è una cosa da dire che il Nord America ha saputo buonanotte Walter ciao Walter ha saputo molto pubblicizzarsi ed è un grandissimo merito Claudio Rita ciao Claudio è un altro membro dell'equipaggio che ha pensato alla moto ciao Claudio buonanotte quindi il Sud America qualche volta rimane più nascosto ma è altrettanto stupefacente senza noi la togliera il Nord America allora Alberto e con la tenerona verrò a trovare il corridone sarà a piacere nostro ti aspettiamo Alberto notte da Faenza ciao Faenza un abbraccio che moto avevi prima della tenerona avevo sempre Yamaha un TDM 900 anch'essa l'ho tenuta per parecchio tempo e non mi ha dato nessun tipo di problema grande moto rapporto qualità prezzo è una moto che ha fatto la differenza negli anni 2004 2005 ah Mattia Cortese specifica ma perché vi invidio troppo continuate così siete forti ma che ci invidi ci aveva detto non so se mi siete simpatici o no no Mattia dai non ci invidiare Mattia che sono due scemi Claudio dice una paella vi va di mangiarla assolutamente caspita non direi altro allora ve lo siete perso San Luiz e Cordoba hanno percorsi no no non ce ne siamo persi perché ancora dobbiamo fare i video siamo arrivati fino a Salta ed è proprio in questa zona che c'è una delle strade più belle al mondo che è la Quebrada dei Capacciate e la faremo vedere in un video perché è bellissima vi siete persi San Luiz e Cordoba no non ci siamo persi San Luiz e Cordoba le abbiamo solo attraversate anche Cordoba non siamo entrati in città abbiamo fatto la circonvallazione di Cordoba dovremmo farla non abbiamo sostato però Cordoba ci hanno detto che è bellissima e l'anno prossimo vorremmo fare la Sierras di Cordoba ci sono tanti posti che sembrano una banalità ma è incredibile una vita non basta è enorme l'Argentina è enorme notte ragazzi continuate ciao Sergio buonanotte buonanotte Roberto e Ennio Mattastore ciao Mattastore XT ragazzi significa supertenere dove sono andato di qua aspettate che che ho fatto che ho fatto eccoci qua poi ragazzi dovreste visitare Cordoba nel mezzo dell'Argentina sì è bellissimo quello che abbiamo detto prima ragazzi buonasera mannaggia mi sono perso la diretta ci devo comunque salutarvi ciao Sandra ciao Sandra buonanotte da Robi da Bergamo ciao Roberto ciao ragazzi Demetrio dice l'importante è che facciate sapere in anticipo dove andate ci farebbe molto piacere vedervi di persona hai ragione hai ragione e dobbiamo farlo Faber una domanda precisa il tuo primo motorino quello che ti ha acceso il cuore mamma mia che domanda bellissima domanda 1992 mio padre mi stava per prendere un'ischemia quando gli ho detto che volevo quel motorino là e sono andato ho lavorato tutti gli anni dal primo al quinto superiore vi racconto questa cosa brevissima una volta ho dovuto dire ai miei professori che avevo la rosolia no era la varicella per poter chiudere l'anno l'ultimo di maggio e andare a lavorare in fabbrica perché suo padre Enzo lo mandava a lavorare perché mio padre voleva che lavorasse ha lavorato sempre in fabbrica e ha detto io lavoro tu non puoi prenderti tre mesi di tempo e tra l'altro ragazzi a scuola erano che bravo però lasciamo a perdere e finisco il discorso ho fatto bene a farlo perché mi ha insegnato molto comunque Faber Red Rose 50 1992 4 marce ragazzi 100 all'ora perché abbiamo messo il pignone rapporti a lungo modificato il carburatore aperto il silenziatore tutte quelle cose che si fanno a 15 anni ho aperto il motore Red Rose con il cambio e tutto quando l'ho rimontato mancavano due spessori sul cambio ma andava ancora bene va bene lasciamo qua Gian Battista ciao ciao Maria Grazia Ferracuti ciao da San Severino Marche San Severino è il futuro marito della sorella il paese è la città la cittadina del insomma di Giorgio il futuro marito di mia sorella ciao ragazzi grazie di cuore buonanotte Torino buonanotte a tutta Torino ciao da Paolo grandissimi grandissimi da Paolo e Mauro un abbraccio ragazzi fortunatissimi Lucky è stupenda TVM900 mi è rimasta nel cuore in due si viaggiava bene sì per me Lucky era in quegli anni era una moto che ha un po' stravolto il settore perché era una moto di via di mezzo se la sapevi ridare nelle curve andava bene per me è stata una grande moto infatti ha tenuto la sua bellezza per diversi anni era una moto futuristica quando è uscita secondo me Maurizio ragazzi oltre due ore di live ma quanto siete amati grazie grazie 535 persone Roberto grazie grazie mille ma quando starete in Italia non organizziamo un incontro vediamoci ci adopereremo vedremo vedremo di farlo cerchiamo di farlo allora sono andato troppo avanti allora around the world che moto prenderesti oggi se dovessi cambiare il discorso la risposta cerco di farla breve per un giro come stiamo facendo noi dove la moto diventa praticamente parte integrante del viaggio non prenderei mai una moto moderna una moto un GS Aventure un Ducati V4 un KTM non la prenderei perché qua la moto la distruggi ma soprattutto c'è anche un discorso che se hai un problema non sanno dove mettere le mani a livello di elettronica prenderei un massimo massimo una moto come la Super 3 Re una moto come massimo un GS bialbero quindi vecchio raffreddato aria olio o non voglio andare troppo indietro perché non mi piace viaggiare con mezzi troppo vecchi tipo il Transalp una Dominè troppo varia per me la Super 3 Re rapporto qualità prezzo affidabilità resistenza al carico cioè ragazzi quella moto è rovesciata sotto sopra pesa 4 quintali ragazzi non ha avuto il più piccolo problema cioè quando non si è arrivata io devo fargli veramente solo i complimenti perché in 8 mesi sempre è stata all'aperto alle intemperie è una moto vecchia che ha 10 anni però l'elettronica giusta forse anche troppa per me è una moto che non primeggia nulla infatti ne sono vendute non erano vendute molte però per fare un viaggio del genere in giro per il mondo ha la sua dose di è moderna al punto giusto quindi ti dà un buon comfort anche un piacere di guida perché mi piace guidare una moto mi piace mi piace oppure anche un GS Adventure di albero è comunque un'ottima moto che non so se sia affidabile come una giapponese perché non è giusto dire queste cose la giapponese sono più affidabile non lo so quello che bisogna dire è che la BMW per esempio ha più assistenza in giro per il mondo però non prenderei mai una moto moderna e proprio per questo motivo perché in un certo senso a me la tenerona mi ha coccolata tanto proprio figuratamente no? perché è come se lei con la sua calma mi ha sempre un po' incoraggiato dato che io non sono una motociclista no? non nasco motociclista e non lo sono tuttora e il pensiero di doverla lasciare qua ragazzi è una pugnalata al cuore Stefano dice ragazzi ma voi vi affezionate la moto? ci affezioniamo io penso che la tenerona questa volta dove ci ha portato penso che se riesco non vende cioè non vale più nulla però l'idea è di metterla dentro dentro la garage anche se inizierofanarla e tenerla per tutta la vita valeva tanto non l'avremmo mai venduta perché purtroppo siccome due scemi ci affezioniamo a quando in ciociaria bere un brindisi speriamo presto perché la ciociaria è un po' casa nostra ci assomigliamo tanto Alex e Maverick il numero che ti affezionate in questa diretta grazie di cuore Alex io non so che dirti dell'algoritmo di Youtube perché non ci sto capendo più di tanto quello che vedo è che voglio continuare per questa strada anche se purtroppo ci sto cercando di capire qualcosa e sto vedendo che dietro c'è qualcosa che non mi piace c'è qualcosa che tante volte gli scritti le visualizzazioni secondo me c'è qualcosa che non sono reali cerco di fare cerchiamo di fare del nostro meglio e in qualche maniera ci premia perché nonostante non facciamo tante visualizzazioni le entrate monetarie sono abbastanza alte e questo è favorevole però è difficile capire come muoversi perché tante volte vedo video non prendetemi per saccente perché per me sono tutti non posso criticare un video e dire il mio migliore degli altri assolutamente la gente lo deve dire però vedo che magari video molto meno curati molto magari sono anche più visti oppure metti in copertina la foto di una ragazza metti la foto di ragazza seminuda e hai più visualizzazioni è un mondo difficile però questa cosa della diretta che ancora veramente 500 persone che devono andare a dormire ci stanno guardando per noi è il mondo non ce l'aspettavamo devo essere onesto non ce l'aspettavamo perché noi siamo pivelli nel mondo di youtube e siamo anche persone che non facciamo cose non condividiamo cose che alla massa tra virgolette alla tanta gente vorrebbero vedere quindi facciamo cose serie e spesso e volentieri non sono le cose viste in quantità però in qualche maniera siamo stati veramente ricompensati anche abbiamo tanto supporto con il link paypal in descrizione che lo dico sempre perché qualcuno riconosce che c'è tanto lavoro dietro e che c'è anche tanto impegno Sara studia parecchio per condividere i luoghi io ragazzi mi impegno veramente tanto a fare un montaggio infatti sono indietro però ripeto faccio fatica faccio fatica a capire l'algoritmo di youtube da noi avrete sempre garantita la massima sincerità in quello che diciamo e in quello che proviamo questo dovete averne non riusciremo mai a fare il contrario Sierro dello 7 colore Sierro 14 14 colori esatto queste cose le vedremo l'anno prossimo per chiudere il discorso da noi avrete sempre garantito questo e tante volte vediamo qualcosa che non ci riporta né nei meccanismi di youtube né in quello che qualcun altro fa però noi non dobbiamo guardare gli altri se non per imparare dobbiamo pensare a noi stessi anche se io tra i due su questi discorsi sono l'anello debole qualche volta mi butto un po' più giù quando vedo qualcosa che mi piace poco ragazzi noi andiamo avanti perché quello che facciamo ci piace perché la strada che abbiamo intrapreso per noi è un sogno era quello che volevamo realizzare è dura è dura però se hai tanta voglia di farla di percorrere questa strada è bellissima cioè ragazzi abbiamo visto tutti i vostri video e diciamo se mi ci piace molto la vostra simpatia se braccia da Bergamo grazie la Penerone è una magnifica moto condivido Winkman dice quello l'ho fatto pure io lavorare nelle vacanze come me e tanti altri è una lezione per la vita condivido al 100% in quel momento in cui ti obbliga il genitore ad andare al lavoro lo odi però è come il professore che in qualche maniera ti sgrida un po' cerca di farti studiare un po' di più è il professore severo quando poi vieni maturo e dici capisci perché l'hanno fatto Simone ci dice mi sono iscritto ma non sono riuscito a vedere tutti i video spero di recuperare in due giorni sotto l'ombrellone dai vamos vamos Simone ragazzi per gli impegni da partire mi sono iscritta la una CP195S Italia addirittura Roberto dice vi seguo spesso siete grandi no spesso Roberto no spesso dai buonanotte da Moncalieri buonanotte Massimo un abbraccio buonanotte buonanotte a Moncalieri dove sono andato qua sei andato sotto scusate ragazzi ci perdiamo un po' mi sembra di essere mi sembra di essere lì in moto con voi ecco perché grazie di cuore Sara ma come fai ricordarti tutto quello che ricordi quando sei in moto Stefano devo riconoscere che Sara studia parecchio per poter fare quello che fa quindi merito a Sara vabbè Stefano poi mi piace quindi cerco cerco di farlo si potrebbe fare sempre meglio però cerco di fare del mio meglio Gabriele Barbera avete il dono della sincerità dell'empatia siete umili l'umiltà Gabriele per me Gabriele grazie del commento l'umiltà e la curiosità sono due cose che dovrebbero avere tutti però è il mio punto di vista Alfredo prendo una prima e non sentirli numero uno e viva il sogno sempre sognare sempre io comunque vi adoro Lorenzo grazie di cuore grazie Visella ciao da Sago sogniamo a Sago anche Gio dove sei andato dove sei andato dai dai che troppo mi si arriva 30.000 la vedo dura Gio ho fatto questa cosa per esempio ti dico questa cosa ho cancellato circa 20 video sul canale per lasciare quelli fatti un po' meglio perché erano fatti all'inizio avevo fatto dei video in tempo reale a Caponordo dico non li voglio lasciare sul canale da quando ho fatto quella cosa là gli iscritti sono spariti per questo ti dico che c'è qualcosa di strano su YouTube non importa va bene così Tommaso dice ora mi rimetto sul divano come dice Francesco a rivedermi un video comodo sul divano senza vento pensare che vi ho conosciuto guardando le recensioni sul GS1002 un saluto dalle langhe mamma mia che terra strepitosa ti ha conosciuto e non avevamo un GS tu pensa questo è l'algoritmo YouTube poi rinuncia a qualche invito altrimenti il peso aumenta la moto patisce verissimo scritto la tenerona ti arriva a 300.000 penso anch'io il problema non sono i chilometri il problema è facendo tanto ripio quello che succede ai cuscinetti quello che succede un po' tutta la struttura della moto perché secondo me il motore come lo stiamo utilizzando noi per quando fa tanto ripio però il filtro dell'aria lo pulisce lo pulisco di tanto bisognerebbe avere una manutenzione migliore però penso che tranquillamente una moto se trattata bene è 300.000 ma ne fa anche di più di chilometri Rossella grazie grazie vostra semplicità vi premierà grazie per noi già questo è un enorme premio quello di stasera enorme speriamo di meritarlo allora Francesco nei posti di blocco in Argentina all'attraversare ogni provincia avete assolutamente Fabio non la polizia argentina la gendarmeria ci sono qua funziona diversamente ogni tanto hai dei posti di blocco quindi tu ci sono proprio delle cassette penso che Fabio sia sudamericano ah quindi lo sa meglio di me comunque ci hanno sempre fatto passare ci hanno salutato non ci hanno fermato Fabio c'è da dire che secondo noi quando vedono intanto vedono la moto da lontano una grande moto che non si vede normalmente danno per scontato che sia un turista questo soprattutto in Argentina dando per scontato che siano turisti fanno un po' quello che succede da noi cioè il turista non si tocca cercano di avere un po' un riguardo perché chiaramente il turista porta dinero oltre a portare tante cose quindi hanno molta sono molto amabili come dite voi cioè sono molto gentili con noi però ci hanno detto che possono capitare casi in cui c'è qualche episodio di corruzione della polizia per istruzione a noi non è mai successo fortunatamente no sembra andare avanti non mollare mai sono d'accordo il sogno la cosa più bella Luca sono d'accordo al certo per cento ciao siete ancora in linea Guido Maria sì siamo ancora in linea siamo noi la vostra società traspare tranquilli grazie di cuore un onore per noi dove sono andato qua come scrollo allora ecco meritene mi sono dimenticato di farvi nuovamente i migliori complimenti ancora grazie per il vostro nuovo video grazie grazie Alberto La Savona grazie di cuore stacca nova ci dice siete ormai parte dai nostri momenti di viaggio e questo per noi è un onore enorme leggendo il nostro secondo libro grazie di cuore spero di avervi dare a Dio Guido Maria Pesce sarà un onore per noi la mia scrivania si è affollata di colleghi che stanno impazzendo per Sara da Tokyo da Tokyo Francesco non portarla qui c'era dal Giappone quando mi date se la porto in Giappone voi giapponesi Gaspari tutti gli amici di Gaspari vi mandiamo un abbraccio grazie grazie anche io amo Tokyo allora Sara Francesco sono contenta stiamo aumentando torniamo a 600 non credo proprio no non credo non credo ragazzi buonas noce Sandra buonas noce da Nestori Sandra ciao ciao ho avuto modo di conoscervi di persona e ora potervi ammirare nelle vostre avventure dall'Italia a parte del mondo come appuntamento quasi quotidiano non apprezzo grazie Alberto grazie di cuore grazie di cuore un grande abbraccio dalla Sicilia Michele Corazon Antonio Vittari ciao ragazzi Pecora Rosce i tuoi scritti sono di qualità guarda un po' per consacenza ti dico che lo penso perché sono sempre costanti tanti commenti vedendo voi vedendo voi abbiamo la conferma ciao ragazzi siete forti un saluto da Catania Catania Pasquale ciao ragazzi siete stati mai no siete stati il mio intrattenimento televisivo più bello in questi mesi per la complicità di coppia grazie buona vita a te dove sono andato ecco non vi abbiamo mai abbandonato abbiamo visto tutti i video speriamo di vedere le condivisioni della vostra vita no mi guido Maria Pesce grazie di cuore quanti chilometri hai percorso con la Tenerona siete fantasci la Tenerona ha circa 125.000 km abbiamo fatto qua in Sud America quasi 20.000 km poi ci dicono Francesco probabilmente chi si è iscritto al canale da quel video una volta cancellato viene scalato dai video forse non si sono cancellati gli iscritti ma crescono in maniera più lenta quindi è strano Antonio Vitali ci dice tornerete in Cile assolutamente sì sperando che mi facciano entrare sperando che mi abbiano cancellato dalla lista nera e cercando in tutti i modi di comportarmi bene a dovere come si fa come si deve a una brava signora ecco perché è stato un mio errore però per quel poco io speravo sì torniamo in Cile assolutamente non vediamo l'ora è anche vero che per quanto ci possiamo documentare questa vita qua ci porta ogni volta a fare delle cose che non conosciamo al 100% un po' ti devi buttare e cercando sempre di fare la persona ma per bene ripeto ti informi ma non riesci a informarti al 100% mai abbastanza ma ci sarà la possibilità di rivedere questa diretta registrata assolutamente penso di sì speriamo di sì è la prima volta che la facciamo dalle impostazioni ho detto di registrarla quindi dovrebbe essere speriamo di sì Ale Morano ciao da Buenos Aires ciao Ale ciao se la meta sarà il Piemonte siamo qui ad aspettarvi grazie Guido grazie Francesco se dovessi realizzare nuove personalizzazioni per la terrenora a chi ti rivolgerai se dovessi realizzare nuove personalizzazioni per la terrenora a chi rivolgerai le tue customizzazioni le farò sempre comunque io e ho le conoscenze con il lavoro da 20 anni mi posso appoggiare a tantissime aziende anche apro una parentesi anche all'azienda dove lavoravi devo dire questa cosa magari non so se il titolare sta guardando non lo so è che quando sono andato via e ho avuto un trattamento cioè sono stato devo riconoscerlo il titolare mi ha detto ti ammiro per quello che vuoi fare e quando vuoi tornare qua c'è sempre posto per te queste sono le parole del titolare quando vuoi venire a trovare vuoi fare qualcosa possono essere solo parole però il comportamento ha seguito le parole mettiamola così anche mi ha detto se ti vuoi inventare qualcosa perché sa della mia passione lo facciamo insieme mi ha detto quindi per dirvi che se vogliamo fare qualcosa si può fare in moto potrei anche ricostruire la moto non è difficile ragazzi dipende dal lavoro per voi che guardate può sembrare complicato ma io sono a dirvi con molta umiltà quelle customizzazioni sono banalissime da fare Rosteluti ci dice quando tornerai l'anno prossimo venite in Brasile insieme faremo la spiaggia d'Ocasino 240 km di spiaggia la conosciamo è anche quella l'anno prossimo non so se lo faremo forse l'anno di là Road Adventure 75 dice verremo a trovarvi a Corridone per farci a teografare il Marocco secondo noi tre volentieri vi aspettiamo ho scorso troppo ho scorso troppo allora autentici di questi tempi e tanta roba stavamo sopra no dai così tanto però dire che stai facendo allora vai avanti no allora non era scusate ragazzi mi sono un po' persa io con la tecnologia lasciala cloche lasciala lasciala complimenti per la possibilità con cui fare il video la semplicità e la simpatia che vi donna Valeriano ci dice Valeriano che i pensionati devono andare a dormire chiudete Valeriano 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 non lo conoscete è quel pensionato è lui il pensionato che nel video quando siamo entrati in Argentina lo vedete oltre a essere menzionato nel libro lo vedete anche nel video alla Guzzisterbio lui è il pensionato che dice che tra l'altro è un uomo che vive la notte è un vero guzzista allora ma poi che farete nel resto del tempo di permanenza non ci lascerete a bocca vuota spero no Beppe l'abbiamo già detto cercheremo di ultimare tutto quello che dobbiamo ultimare compresi gli otto super pipponi che Francesco stasera vi ha promesso però oltre a quello abbiamo intenzione di viaggiare per l'Italia torniamo apposta proprio per farci un piccolo spicchio dell'Italia e godercela appieno quindi e condividerla allora voi ci chiedete di non abbandonarvi ma noi vi chiediamo di non abbandonarci esatto è diversa la cosa noi abbiamo bisogno di voi Maria Grazia Lomato ci saluta ciao ciao una bella serata passata è stata per noi grazie un abbraccio a te amato ciao ragazzi vi ho conosciuto più avanti dagli inizi ma vi sono fatte le maratone grazie Valeriano abbiamo detto dovresti mettere sì complimenti per la professionalità con cui fate i video e la semplicità e simpatia che vi conta distingue tornate in Italia però che ci interessano tanto i vostri viaggi europei questa cosa Stefano ce l'ha detta bel commento ce l'ha detta ce l'hanno detta in tanti perché qualcuno ci ha detto magari il viaggio che fate noi non riusciremo mai a farlo e invece prima quando facevate viaggi in Europa eravate da diciamo da spunto oppure tante persone ci scrivono noi ci troviamo nello stesso hotel in cui siete state voi nella stessa camera per noi ragazzi è un onore perché io dedico veramente tanto tempo nel fare i nostri itinerari e nel selezionare le strutture le condivido apposta proprio perché chi vuole fare un viaggio simile si trova diciamo il viaggio bello che è pronto è un lavoro enorme dietro e se tu te lo trovi pronto ci fanno tanto tempo l'idea appunto di fare un po' e un po' anche per condividere anche per questo lavoro che facciamo e per noi in primis vedere e conoscere l'Italia perché noi siamo i primi a dire che è bello il mondo ma è bellissima l'Italia esatto è ingiusto viaggiare e lasciare indietro l'Italia no non lo faremo mai questo è quello che pensiamo noi però l'abbiamo già detto prima l'Italia è una delle nostre priorità e abbiamo la possibilità abitando in Italia avendo residenze in Italia di insomma girarcela a spicchi no? girarcela ogni tanto e oltre a questo grande piacere e grande sogno che abbiamo cerchiamo anche di soddisfare quelle che sono state le vostre richieste le richieste di tanti di voi cioè tornate in Italia fateci vedere quello eravamo affezionati ai vostri giri e prendevamo molti spunti dai giri che facevate quindi abbiamo unito ma no perché noi siamo più bravi di voi perché noi lo condividiamo perché noi lo condividiamo la differenza è solo questa ecco un po' come tutte quelle persone che vengono in Sud America tanti vengono senza condividerlo e noi l'abbiamo condiviso noi dobbiamo imparare molto e conoscere tantissime zone che magari voi le conoscete anche meglio di noi quindi dateci consigli anche sull'Italia stasera per esempio ci avete dato tanti spunti che vandranno il nostro club ZZR14 hanno raggiunto nei coglioni poi ciao siete dei grandissimi comunque vada non prendete mai una KTM io ho avuto un sacco di problemi meccanici elettrici sono passato GSA a Vento 2012 sono felicissimo grazie per la tua condivisione che dire della KTM anch'io ho diversi amici con la KTM è una grandissima moto è tanto performante e secondo me dal mio punto di vista più sono performanti e più ovviamente cioè la faccio semplice la Denerona ha pochi cavalli e ha meno coppia è più facile avere meno rotture meccaniche o magari anche elettriche non tanto ma meccaniche perché la moto appunto è meno esasperata qui parliamo di motori con tanta potenza che girano anche in alto non sei il primo che mi dice queste cose ho anche un amico Giorgio che ha avuto diversi problemi con la KTM però non bisogna dire che sono moto che danno tanti problemi perché sono delle grandi moto perché tanti dicono la stessa cosa del BMW prendi la giapponese perché il BMW ha anche altri problemi io sono dell'opinione il mio punto di vista che non c'è una moto meglio dell'altra nel senso per carità una moto non è giusto neanche dire questo ma se prendiamo un GS Aventure un KTM 1290 una Ducati V4 parliamo di moto ragazzi che sono una la Jaguar una la Aston Martin una la Ferrari è che le esperienze personali dopo cambiano un po' le carte in tavola le giapponesi perlomeno quelle vecchie hanno avuto sempre il nome di moto indistruttibili perché appunto i giapponesi se uno va in Giappone in viaggio si rende conto di come sono fatti i giapponesi e capisci che sono differenti e i ragazzi di Tokyo che ci stanno guardando possono confermare possono dire come sono i giapponesi possiamo dire qualsiasi cosa ma se uno fa un viaggio in Giappone si rende conto della funzionalità dell'affidabilità di tutto Stakanov ci dice mi avete fatto piangere quando avete rincontrato la Tenerona dopo due mesi la scena è stata memorabile adesso che dovremmo rilasciarla Stakanov è veramente dura pensa nei nostri panni che noi la seguivamo nell'oceano perché c'è un'applicazione dove il container lo puoi seguire come se al GPS il container quindi lo puoi seguire al centro dell'oceano quando si fermava in un porto quando si fermava lungo le coste del Brasile riprenderla anche perché magari nel container può cadere magari quando la vai a riprendere qualcuno ti ha rubato qualcosa questi trasferimenti sono sempre un po' difficili da superare Guido dice siete un appuntamento fisso per mia moglie una Goldwing buona strada a voi a Guido e a sua moglie è la Rosslores delle moto Gabriele dice una cosa che io invece ti ho detto già a questi giorni fatti le analisi del sangue quando torni hai il colesterole tridicelli a mille ne penso anch'io però ci muoviamo parecchio eh ci muoviamo parecchio sì quello è vero camminiamo tanto però le analisi vanno fatti bello il libro compratelo grazie di cuore grazie Francesco grazie grazie per il video permettete di sognare anche un vecchio musicista come me 70 anni non sei vecchio 70 anni Graziano Graziano noi abbiamo incontrato persone che hanno piani di te ad Ushuaia in moto passeremo all'elba ma magari assolutamente sì Rocco cosa pensi dell'HD Panamerica e ho conosciuto una coppia qua che sta facendo il giro del Sud America ha avuto un po' di problemi però è soddisfatto e Augusto dice notte bianca su YouTube spargete la voce battete il record della live siete ancora 462 ragazzi allora non andate ora che siete giovani è la scelta giusta stare in giro vi assicuro che arrivare a Finisterra a 67 anni con mia moglie è stata una gran fatica Fabio Esposito ma è una fatica viaggiare in moto chi dice il contrario forse perché non viaggia in moto soprattutto una cosa che è veramente complicata condividere il viaggio in moto cioè tra farlo con una moto e farlo con un mezzo o quattro ruote il nostro lavoro è molto più complicato metti la pioggia metti la neve metti qualsiasi cosa la stanchezza il fatto che è più pericoloso una moto per due persone ricordatevelo è un dramma però noi ce la mettiamo tutti Claudio dice ci fa la stessa domanda che ci hanno fatto vi è capitato di avere un momento di sconforto e di dire ma chi ce l'ha fatto fare l'abbiamo detto prima Claudio no cioè di dire chi ce l'ha fatto fare no neanche neanche in un attimo io ogni tanto ho avuto lo sconforto guarda ti dico una scena quando siamo caduti quando ci siamo rimessi in moto ho pensato io a quest'ora sarei in negozio a sistemare le mie cose a far a presentare l'ultima fragranza di quel marchio nella mia tranquillità vestita bene non impolverata non acciaccata lo pensi ma la verità è che non vorresti fare quello perché hai scelto altro non so come spiegarlo è difficile ti deve piacere tanto ti deve piacere tanto e lo devi aver scelto pensandoci tante tante volte in cui lo hai pensato e lo hai continuato a scegliere ogni volta però una cosa la voglio dire tutte le cose difficili proprio per il fatto che sono difficili ti lasciano tantissimo se riesci a superarle quando le ricordi quando le rivedi è bellissimo perché le cose facili come dicono i più grandi psicologi sono cose banali è bellissimo non lo so Rodrigo Furlana ci dice un saluto de acá de Rio Grande del Sur mamma mia ragazzi no scusate per l'italiano malissimo ma magari parlare il portoghese come tu stai scrivendo l'italiano bravissimo avevo confusione mental con argentino io ho avuto confusione e ho tuttora confusione tra lo spagnolo e l'inglese quindi figuriamoci tu che hai tra insomma lo spagnolo e l'italiano un bacio per Sara e Francesco grazie Rodrigo un grande abbraccio ma avete conto che dopo due ore siamo ancora 500 ragazzi scrivetecelo quando volete chiudere che noi chiudiamo perché anche qua si è fatto notte infatti la luce è diventata penso la visione è pessima miglioreremo anche qua audio e video nelle dirette prossime perché mi piace essere nerd sotto questo punto di vista ma devo studiarci bene però miglioreremo comunque Claudio sono le 18 e 52 quindi considerate che sia l'argentina che non adotta mai l'ora legale quindi sempre sia l'Uruguay in questo momento siamo 5 ore indietro quindi Gabriella c'è un ragazzo Rodrigo comunque verremo a Rio Grande do Sur in Brasile si ci hanno detto in certe zone di stare molto attenti anche del Brasile sempre le grandi città quelle le visiteremo Gabriella grazie con la tua solita frase che scalda il cuore grazie di cuore come fai ad essere così ferma nelle riprese in realtà non ho grande merito Gabriella è più la tecnologia che mi metto in mano io non sono così così performante io da sola il mio braccio la mia mano non faccio tantissimo io e mia moglie ci siamo fatti nel 2012 1300 km del Cile vedendo cose straordinarie mi piacerebbe conoscere sarà il piacere nostro Antonio è verissimo il Cile è stupefacente è un po' come la Norvegia in certi punti solo che è diversa vi aspetto a Bergamo all'RS Moto Honda per un caffè mamma mia Riccardo un abbraccio grazie Stefano ciao ragazzi complimenti secondo me è così può darsi che Monica si decida a salire in moto Stefano pazienta comunque Stefano ce l'hanno detto in tanti alla fine tante sono salite anche io ho fatto questa cosa per diversi mesi non sono salita in moto Francesco l'aveva ferma in garage e io non salivo non salivo neanche per andare a Civitanova Marche che è sul mare che dista da noi 25 km quindi pazienta e ora e ora nel suo culo un po' di chilometri ce l'ha la moto è come un vestito di sartoria deve starti su misura specialmente per quello che ne vuoi fare io sono d'accordo al 100% è vero è verissimo Lucia Lucia il mese scorso forse a San Galgano come il vostro video San Galgano ci è piaciuto tantissimo siamo contenti che l'hai apprezzato che siete andati come per tutte le cose dipende come le devi usare al 100% Gojama Bruno siamo felici di essere complici nel convincere tua moglie perché in un certo senso è stato un processo lungo anche per me come ho appena detto quindi dove sono andato? provate non so senza Mirko Mirko pazza amici miei ciao Mirko un abbraccio a te da Corridonia Mirko vive la notte non dorme sì come sempre siete il nostro appuntamento serale ogni giorno attendiamo di vedere se c'è una nuova notifica grazie di cuore Valentino Mercurio Valentino Mercurio ragazzi è la persona artefice della pizza che avete visto a no a Santiano del Cile da Manuel non mi viene il nome dalla finestra risonante ciao ragazzi spero di continuare a farci leggere insieme a voi l'idea di fare anche un po' di Italia non la scatterei infatti è quella che faremo ovviamente cominciata dalla Calabria la sua regione assolutamente dobbiamo dobbiamo andare dobbiamo farla però volevo parlare sì Sara con questa lunga chat stai perdendo l'influenza dello spagnolo eh sì ma la perderò presto ragazzi cioè il mio è molto casereccio no è bravissima Sara è bravissima veramente però dai ci provo Alessandro dice Houston Houston stiamo la chat va avanti sì è vero poi vi ascolto da dolore e non mi viene ancora a dirvi buonanotte grazie di cuore grazie Andrea buona strada per Caponord chi ha la maggior parte della colpa 16 anni che viaggiamo in moto non siamo più tanto giovani il tutto però ci rende però felicissimi è verissimo moto turisti in viaggio divano sì sfondi una porta aperta perché la sensazione che ti dà il fatto che viaggi respiri senti gli odori vedi le cose le difficoltà appunto torniamo al discorso di prima la moto è difficile ma ti restituisce tanto cosa che un mezzo o quattro ruote non fa però il mezzo o quattro ruote ha altre sfaccettature interessanti e soprattutto nella lunga durata perché ripeto nella lunga durata le cose cambiano comunque oltre a perdere il mio accento leggermente acquisito spagnolo se andiamo avanti con la diretta mi sentirete parlare in dialetto siete dei grandi di metà del pubblico migliore Giovanni grazie di cuore Marco Doniacci siamo una coppia di Bari so che quando avete lasciato la moto siete venuti a trovare alcune sì siamo venuti ad Altamura ci incontreremo a Bari molto volentieri torneremo di sicuro ad Altamura torneremo a Bari quindi sì e sarà un piacere incontrarmi Marco decisamente Paolo Mergenni buonanotte ti racconto questo il 19 agosto partiremo con destinazione Stelvio e passi vari nelle fasi preparatori memogli mi ha chiesto ma lì non ci sono stati fra e Sara sì sì quel video che avevamo davanti la Vespa quindi tutti i passi alpini quello che prendete prendete bene grande buon passo posta un video pippone su come fare editing al tuo livello e Augusto grazie per il tuo livello e bisognerebbe farlo anche qua youtube non ti premerebbe perché fai una cosa che vai fuori da quello che fai spesso questa è una cosa cattiva forse bisogna aprire un secondo canale per fare cose diverse Paolo grazie di apprezzare ogni giorno scelgo un vostro video e lo riguardo siete diventati di casa e poi amate gli animali questo Paolo è la cosa più bella che mi dà forza di andare avanti però ragazzi come si fa a non amare gli animali io cerco ancora di capire come si possa fare cioè certi sospiri di Sara la gioia e stupore di quello che vedeva fanno capire grazie grazie è verissimo perché tante volte ci escono senza pensare che abbiamo la camera accesa Ettore buonanotte Luca Mastro Pasqua lo ringrazio in diretta perché con tutto il supporto che ci ha dato con Paypal è veramente grazie carissimi in ogni mestiere c'è una curva con il tempo molti attuali dubbi si chiariranno avete una grande capacità di fidelizzare chi vi segue questo è un grande punto di forza grazie Luca è un onore quello che ci hai detto è un commento bellissimo penso per empatia già di conoscerti grazie grazie di cuore Alessandra si è da libri sette minuti non capisco forse ci siamo persi il messaggio sopra Luca Mastro Pasqua consolidare la vostra siete davvero bravi avanti così un abbraccio grazie di cuore ragazzi la stanchezza Antonio inizia a finire la voce Francesco in realtà perde ogni volta la voce Francesco perde la voce ogni volta che c'è un pranzo di matrimonio lo perderà anche al matrimonio di mia sorella ha un calo di voce quindi aiutateci perché non si può parlo troppo sì però parlo anch'io grazie di cuore grazie di cuore Stefano Cadelli Stefano e Luisella ciao ciao un abbraccio ciao da Torino grazie Roberto Antoniazzi lo conosciamo bene sì caro Franci se qualche volta passerete ci stira le orecchie dal mio paese un piccolo comune siciliano nella provincia di Palermo si chiama Santa Cristina sarò molto lieto di ragazzi ecco la diretta prendo nota ha lanciato il telefono e la e la borraccia che ha fatto un rumore enorme no Santa Cristina lo segno lo segniamo assolutamente allora ciao ragazzi pensavo che prima di voi seguivo Step Sover non so se li conoscete però rispetto a loro che viaggiano in campo e voi siete super grazie ci vogliamo Venturelli li seguiamo tantissimo Step Sover sono grandissimi hanno un mezzo strepitoso e come detto prima il loro mezzo io gli faccio i più grandi complimenti è per poche persone perché solo acquistare i pezzi hanno delle l'ho studiato e guarda con saccenza vi dico che gran parte degli impianti potrei farli anch'io e faccio i complimenti a Simone per come l'ha fatto è veramente un grandissimo sì li salutiamo Simone e Lucia però voglio salutare in modo diverso è verissimo verissimo grazie Carlo sono grandissimi i loro complimenti a loro però voglio salutare Rosario buonanotte da Citanò ma dove sta? eccolo qua Civitanova Civitanova ci vedrete presto la mia è salita a 48 ah ok qua a mezzanotte e domani mattina mi tocca Anna Laura alle 5 la sveglia buonanotte Gigi buon lavoro buon lavoro buonanotte Mirko Pazza un abbraccio un abbraccio ciao Mirko ci vediamo a Corridonia mi raccomando Roberto dice chi dei due patisce più la lontananza da casa allora Roberto sulla carta decisamente io assolutamente ed era un mio grande cruccio prima di partire perché non mi sono mai allontanata così tanto per tanto tempo ho fatto per un periodo l'università come fuori sede però poi per vari motivi ho dovuto lasciare però era sempre un ritornare sulla carta io devo dire che con il mio grandissimo stupore nonostante i miei 42 anni che quindi insomma da donna matura capelli bianchi quindi non si può avere così tanta nostalgia nonostante tutto non ho avuto nostalgia di casa sentiamo la famiglia regolarmente è anche vero che l'aspetto tecnologico oggi aiuta parecchio aiuta tantissimo non è la stessa cosa assolutamente perché è come qua vedersi abbiamo voluto fare questa diretta perché è molto più vicina rispetto alla premiere sarebbe stato bello vedere anche voi però non si può quindi per dirvi che aiuta tantissimo la tecnologia ma al tempo stesso l'abbraccio il calore è un'altra cosa però diciamo che con mio grande stupore non l'ho patito neanch'io ne vado fiera di questa cosa perché per me è una piccola conquista Faber Motto l'aveva scritto anche prima l'uomo che voleva far vedere l'orto ai suoi clienti bellissima scena è stato Manuel del ristorante La Finestra Santiago del Cile che abbiamo conosciuto grazie a Valentino Mercurio che ci ha offerto per chi si è collegato ora orto in spagnolo significa orto è lo sfintere lo sfintere il buco del ci siamo capiti in realtà orto in spagnolo si dice huerto e lui siccome inizialmente ti arrangi un po' con lo spagnolo perché pensi e hai un po' la consapevolezza che tante parole italiane siano simili a quelle spagnole quindi vai un po' a tentativi come facciamo anche noi e lui diceva alle sue clienti vamos ti faccio ti faccio vedere il mio orto perché lui aveva messo su un orto come si fa in Italia da buon calabrese aveva messo su un orto gli spagnoli non sapendo che significava il significato l'orto in Italia soprattutto le donne no cioè dove vi porti ecco è stata memorabile quella scena verissimo Antonio non dimenticate la basilicata è fantastica ci siamo stati ragazzi i miei complimenti Francesco credo che hai bisogno di salire un po' ma terra nel cuore assolutamente che dirti io amo la bici è un'altra passione enorme che ho considera che ultimamente facevo più clama in bici che in moto e mi mancano le bici perché per me è uno sport bellissimo Salvino vero non dobbiamo pensarci adesso al colesterolo e al glicemia un abbraccio Paolo B ciao un abbraccio al colesterolo e al glicemia non ci pensiamo ma la diretta dovete chiuderla con il solito pezzo musicale Sandra non so neanche come si fa lo sai non so se si possa fare Graziano intanto ti salutiamo buonanotte devo imparare questa cosa e non so se si possa fare Nic ha fatto come mia madre un per cento di batteria quindi se ne viene andata mia mamma batteria scarica buonanotte mitici sì Silvano Cuoghi ci ha salutato mitici un abbraccio aspetta qui siamo arrivati qui Giordano ciao ragazzi nel mio piccolo siete un riferimento per me vi adoro Giordano grazie di cuore aspetto il dialetto allora quando andiamo in moto io e mia moglie al ritorno cantiamo sempre la vostra canzone caffettina Pecola Roscia numero uno top assoluto Guido Maria Pesce buonanotte ragazzi buon rientro a casa grazie di cuore mio figlio si sposa il 2 settembre il giorno prima della sorella di Sara in bocca al lupo siamo noi penso che sarà un'enorme soddisfazione perché Guido è il tuo figlio che si sposa per noi il giorno del matrimonio è stato il giorno più bello della nostra vita tanti tanti auguri Guido tanti tanti auguri a te Giordano perderà la voce ma non l'appetito io quando mi alzo vado a aprire il frigorifero non lo perde mai l'appetito secondo me ti convivano di panamerica no notte da macerata Paolo notte si conosciamo perché ti vediamo spesso in chat grazie un abbraccio a macerata è la nostra provincia ciao ragazzi Antonio e Roberto ciao ciao Roberto adesso appendete la moto al chiodo no mi aspetto da voi un'altra bella avventura a mandare in via certo assolutamente non si appende nulla al chiodo c'è un'altra moto che ci aspetta in Italia Aldo Serrati ciao ragazzi siete troppo forti mia moglie vi sediamo sempre Liguria un abbraccio alla Liguria più bosa un po' come il Cile l'abbiamo nominata tante volte quando eravamo in Cile bella per quello Alexandria Library sono di pomeriggio continuiamo a seguire la diretta quindi ok mi vedrai parlare in dialetto Riccardo Pavese Tommy la mia suoneria di telefono è la vostra canzone Riccardo non sei l'unico anche mio fratello l'ha messa compreso il fratello di Francesco buonanotte ragazzi grazie per il tempo di qualità grazie di cuore grazie grazie a te buonanotte buonanotte ragazzi buonanotte ciao ciao Maurizio ciao Claudio come già detto create dipendenza l'unica cura è pianificare un viaggio assolutamente siamo d'accordo Mario fatelo sempre tra un po' salterete la cena oltre al colesterolo calerà anche la ciccia verissimo poi ragazzi sicuro mi ricordo ma io sto sudando come se sto facendo una corsa sì perché noi non vi da Cupra Montano intanto salutiamo Dario abbiamo un debole chiaramente per le nostre zone perdonateci però quando li vediamo un attimo ci si scalda il sangue nelle vene bella domanda questa Angelo salutiamo Patrizia Nottolini notte ragazzi se no domani sarà dura Patrizia Nottolini glielo dici fatti glielo dici che dovevi stare con noi Maurizio Frito se parli in letto resto a quando rifare Caponord questa volta sperate guarda l'abbiamo detto ci piacerebbe rifarlo però con più calma perché abbiamo saltato tanti posti se riusciamo solo che il problema della Norvegia che è tanto cara e non c'è solo quello di problema secondo me ritroveremo pioggia di nuovo però a parte quello se hai più tempo da dedicarti tanto tempo alla Norvegia e in questo caso la Norvegia avere un mezzo a quattro ruote da starci anche in inverno sarebbe spettacolare questo per dirvi ragazzi che non c'è il mezzo perfetto ma si potrebbe viaggiare con entrambi i mezzi però la moto per adesso rimane il riferimento Angelo dice ciao ragazzi sono lì tardissimo non importa sei tra noi va bene qual è il perro più simpatico dei vostri viaggi ce ne sono stati tanti però quello che insomma ricordiamo con un po' di sospiro perché era quello che ci faceva fare lì è Benito del Cile perché Benito è stato ragazzi era un campio al collo un leone era un leone che non si staccava la palla al piede era però allo stesso tempo ridevamo tanto vi raccontiamo una cosa quel cane là ne avevano due di cani identici il secondo cane non si è fatto mai vedere mai Benito giorno e notte ha attaccato alla nostra porta ci ha osservato poi quando siamo andati in paese a piedi che abbiamo fatto circa un chilometro a piedi Benito non esce mai dalla struttura dalla recensione quindi non è non è un cane di strada e non è abituato a confrontarsi con gli altri cani esatto siamo usciti ci è venuto dietro noi non sapevamo come fare e non voleva staccarsi a noi fino in paese abbiamo avuto una situazione un po' difficile perché una cagniera lungo la strada lui ovviamente non stava al guinzaio stava libero con noi anche perché era impossibile portarlo al guinzaio non passa nada là però ogni tanto ci sono dei cani nelle altre case liberi in gruppo tra l'altro e abbiamo visto c'è stato un assalto vero e proprio da altri due cani quasi feroce l'hanno morso sopra la croppa noi abbiamo urlato agli altri cani sono fuggiti e da lì siamo tornati in struttura per riportarlo dentro e chiudere il cancello è un mix di sconforto quando lo pensiamo e di noi mi raccontiamo queste cose che nel video tante volte non vedete perché c'è tanto dietro al video però ce ne sono tante in realtà di perri che abbiamo nel cuore Benito è stato quello più pesante perché lui era pesante fisicamente e lo è stato caratterialmente quindi ogni volta che lo pensiamo ci fa tanto tanto ridere tanto tanto Angelo Bianchini ma siete bellissimi grazie di cuore Dario Morici ciao frate ciao frate ciao ragazzi vi seguo da quando avete iniziato siete stati siete tuttora in espirazione Ennio un onore per me e mia moglie avendo una bambina è difficile viaggiare spero un giorno di poterlo fare allora Ennio che dirti assolutamente con una bambina con il moto è impossibile noi abbiamo visto situazioni che non credevamo l'Italia è un po' particolare sotto questo punto di vista ovviamente con un figlio è più difficile fare quello che facciamo noi cioè in moto è quasi impossibile ma abbiamo incontrato anche una coppia in moto due moto il bimbo avrà avuto 6-7 anni e stava seduto dietro alla moglie sì con la mamma con la mamma e loro viaggiavano per tutto il Sud America poi capiamo che magari però magari con un camper sarebbe più facile ci vuole più impegno anche per insomma lasciarlo studiare in viaggio è difficile ragazzi è un impegno economico ce ne rendiamo conto è più difficile onestamente oggettivamente però Ennio arriverà il tuo momento perché considera che ti dico una cosa sono confortato dal fatto che c'è gente che lo fa quindi si può fare ti dico una cosa Ennio noi io ho vissuto tre anni praticamente uscendo dal lavoro andavo direttamente all'ospedale mia madre è stata all'ospedale si è operata tre volte e poi purtroppo è finita male e però per dirti che non potevamo partire in quel momento e quindi arriverà il momento per chiunque io sono dell'opinione che bisogna volerlo bisogna programmarlo non puoi farlo domani lo potrai fare e fra cinque anni pensa sempre positivo che arriverà il momento però che te magni stasera dice bella domanda bella domanda la domanda la devi fare a me perché sono io la cosidera non è perché io non so cucinare dillo a loro perché loro non ci credono io sarei in grado di cucinare sì perché ragazzi chi gli piace a mangiare gli piace a cucinare ecco adesso ne esce il dialetto io gli faccio qualcosa e noi che fanno ragazzi non capito me l'ho portata ormai quando ce l'hai dietro è qualcosa cioè la devi usare però alla fine che gli rispondiamo che ti magni stasera che gli rispondiamo a Gian Pietro non lo so stasera o dobbiamo uscire ma a sto punto penso che ci abbiamo gli orari no perché la verità si è iniziato la diretta erano per noi le 4 di pomeriggio pensavamo si collegheranno 50 persone e dopo un'ora la chiudiamo ma neanche ci fa un enorme piacere però ci fa un enorme piacere andiamo avanti fino a quando volete però qua tanto chiudo uno alle 10 di sera quindi qualcosa si può fare ieri sera abbiamo mangiato comunque per dirvi ieri sera abbiamo mangiato perché la nostra casa ha un po' tutti gli elettrodomestici qua a Montevideo non è come tante abitazioni che abbiamo preso in Argentina qua lo standard o in Cile è quasi italiano però vi possiamo garantire che abbiamo visto abitazioni complicate anche per cucinare dove tutto era rugginito non era facile non è facile ti prende lo sconforto anche qua stiamo imparando a livello tra il costo e la qualità dove possiamo scendere come possiamo contrattare imparando lo spagnolo ora chiamiamo la gente chiamiamo le strutture quindi non passiamo per nessun tipo di canali per prenotare quindi non abbiamo commissioni però ne mandiamo fuori tema va beh comunque questa sera ieri sera abbiamo mangiato abbiamo mangiato hummus perché ho cucinato ho cotto i ceci e poi li ho passati al frullatore abbiamo mangiato un po' di riso le uova l'altro ieri invece abbiamo mangiato la bistecca che qua la carne è numero uno però cerchiamo di non mangiarla sempre questa sera non so abbiamo comprato anche la passata di pomodoro a qualcuno annoieranno questi discorsi però abbiamo comprato la passata di pomodoro però dobbiamo finirla quindi ieri sera abbiamo detto possiamo fare dei crostini con passata di pomodoro con dita qua si trova a Montevideo nel centro commerciale vicino casa si trova un po' di tutto l'unico problema è che a Montevideo i prezzi sono come in Italia non siamo più in Argentina per certe cose sono anche più alti l'Italia quindi ragazzi salasso Sara sei fantastica grazie Maurizio che hai a tuo fianco assieme se vuoi Maurizio di fianco a me è facile essere favolosa grazie Maurizio buonanotte ragazzi buonanotte Stefano grazie di cuore fatale più spesso queste live fatale distinto Stefano quando mi dite scrivete buonanotte io distinto abbasso il tono della voce perché secondo me vi disturbiamo nel sonno Francesco ma perché metti quelle bellissime canzoni nei tuoi video ogni volta che le sendo nel mio cast rivedo i vostri grazie di cuore grazie Fabri ci dedichiamo ora a trovare le canzoni Santino buonanotte buonanotte Milano dove sono andato qua ero sicuro che ci eravate che ci eravate venito venito è stato il vostro guardia guarda assoluto batteria arrivata a Capolini a Pecora Roscia ciao ciao a gusto la cosinera le voglio fare io queste cose devo fare un canale a parte perché non è è brava Francesco a sabato 5 agosto capo nord Lofoten buona buona ruta Marcello buona ruta colpa mia un me lo dico un pares de manicas perché io ti dico dedica tanto tempo alla Norvegia perché la Svezia è veramente pollosissima perlomeno come l'abbiamo fatta noi non è paragonabile alla Norvegia ecco perché bisognerebbe farla all'interno c'è tanta roba da vedere anche in Svezia però bisognerebbe avere tempo Angelo invece va nelle nazioni dell'est e la voglia non passa mai 68 e 70 numero uno abbiamo un debole per le regioni dell'est per gli stati dell'est sì da tornacce e vederle bene anche là per il tempo perché buona ruta anche a te Angelo ottima scelta sì allora ragazzi perché non mettete anche la traccia GPX i vostri viaggi hai ragione qua penso che tanta gente non so se la se praticamente farebbe comodo la traccia GPX anche perché ho messo un dispositivo sulla moto che è un antifurso satellitare che in automatico mi tira fuori la traccia GPX altrimenti farei fatica a tirarla fuori in quanto attualmente dopo la caduta sto viaggiando solo con Google Map qua in teoria il navigatore neanche servirebbe perché le strade sono talmente poche che si potrebbe viaggiare anche tranquillamente con la cartina come una volta e il navigatore utilizzarlo solo per trovare la struttura Francesco invece ci dice in Italia lo faremo guarderemo Messenger perché dà acquata intenzione di venire a Corridonia va bene va bene ti aspettiamo Rosella buonanotte ragazzi è ora anche per te Morfeo chiama è vero Potenza Picena Rosella Potenza Picena un abbraccio diccelo prima ricordi il tuo nome non ci hai detto nulla tacca ma dalla tua altra esperienza sebbene tu vuoi altra esperienza grazie ma sono come voi tu vuoi siate possessori di tutte le versioni del Neotech che ne pensi lo Schubert C5 o E2 perdona se la domanda è out of topic no no nessuna domanda out of topic nel senso che lo Schubert è un ottimo casco il problema è che io ho il viso largo e lo Schubert d'est è molto stretto con il Neotech mettendo i guanciali sottili e c'è una vestività migliore guanciali o guanciali? guanciali 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 è un'altra cosa Francesco a fare il Neotech lo sento meglio e con Sara che ha il viso più stretto metto i guanciali più spessi e lo sento io sono un po' megamante invece il contrario vedi Gio ti dice C5 tutta la vita Gio si trova benissimo quindi ti ha risposto al mio posto Alfredo buonanotte fra tre ore la sveglia Alfredo buonanotte buonanotte concordo se ami la moto arriva il momento con tre figli siamo riusciti Antonella e Roberto buona ruta numero uno dove avete avuto più difficoltà a fare la spesa a Maurizio la carrettera australe qui più scendi a sud e più ti trovi negozi che sono difficili chiamarli negozi cioè dentro hanno pochissima scelta no sono la difficoltà frutta e verdura magari la trovi una volta a settimana esatto è questa che sono talmente dei posti remoti la carrettera australe detta in pochissime parole è l'unica via di comunicazione di una parte della Patagonia cilena è stata costruita da inizio anni 90 fino agli anni 2000 da Pinochet e è l'unica via di comunicazione per appunto questa zona perché questa zona possa comunicare con il resto del Cile questo fa sì che allora alcuni alcuni tratti sono ora asfaltati ma ancora sono molto pochi la maggior parte è tutta ripio quindi tutta sterrata considerate che fino a quando non c'era questa strada alcuni paesi del sud del Cile si rifornivano in Argentina dovevi fare la dogana in Argentina per entrare in quei paesi perché non potevano circolare dentro al proprio paese dentro la propria provincia quindi nei pueblos più sperduti e nella carrettera australe è veramente difficile hai veramente poca scelta perché magari c'è capitato una volta a Rio Tranquilo tra l'altro un posto bellissimo che ha piovuto sempre non c'era acqua perché era saltato l'acquedotto proprio del pueblo e quindi la gente si riforniva con l'acqua insomma l'acqua della bottiglia per poter bere per poter lavarsi per poter lavare il problema era anche l'approvvigionamento dell'acqua perché le consegne non erano così frequenti quindi potevano passare alcuni giorni prima che un negozio si rifornisse di acqua stessa cosa per frutta e verdura il problema è che la grande difficoltà è che non puoi mangiare quello che pensi di poter mangiare la comida è totalmente diversa è stata l'Italia e ti manca perché stasera che mangiamo ragazzi la comida italiana è inutile dirlo quando tu fai un viaggio che fai un viaggio di 15 giorni e dici vabbè vai a quel paese mangio tutto mi piace anche mangiare cose nuove però a parte quello quando lo fai nella lunga distanza ti manca in più in questa nella difficoltà della carrette rostrada non solo devi inventare quello che puoi mangiare perché a volte è veramente veramente è una cosa che ci è mancato tanto il pesce il pesce non lo trovi quasi da nessuna parte veramente questa cosa non ce l'aspettavamo soprattutto in Cile poi dove comunque lo mangi congelato però non c'è un pesce fresco buonanotte è stato un piacere è stato un piacere Antonio ciao Antonio buonanotte mi sta facendo venire fame anche a noi buonanotte ragazzi buonanotte grazie ancora per il supporto wingman quando usciamo in moto mia moglie ormai serve vamos anche noi lo usiamo sempre Daniela ragazzi batteria scarica sia saurida Daniela grazie di cuore buonanotte anche io voglio incontrarvi in Corridone organizzare un evento se lo faremo lo faremo sapere giusto organizzato un evento a Corridone Maurizio Federico ok buonanotte ragazzi buonanotte Alessandro spesso quando Sara spiega le cose mi parte sul telefono la musica di Piero Alessandro sei un fuori di testa buonanotte ragazzi buonanotte buonanotte la prossima volta vogliamo sentire anche cosa ne pensate a tenere di questo cambio di vita te lo chiederemo Andrea oggi è il tuo cumpleanno felice cumpleaños assolutamente mi ti dispiace per il corso che hai avuto che non hai potuto seguire Sara dovresti pensare ad un libro di cucina e trattato il menù della cuciniera bellissimo a gusto buonanotte buona vita a voi ragazzi Civitanova Quintilio buonanotte da Cittano Civitanova un abbraccio 3 ore e 21 minuti non pensavamo mai ragazzi che stavate con noi sono più stanco di quando faccio 1000 km in moto con il rizzo buonanotte dalla Sardegna Giacomo la Sardegna over the top over the top faccio il fornaio a casette verdini pollenza sto impastando i parito numero uno ma non ci dire queste cose perché ci mancano tantissimo mercoledì prossimo me li porto Francesco un onore un onore mamma mia un abbraccio un abbraccio enorme che dice ragazzi chiudiamo ragazzi 3 ore e 22 minuti abbiamo saltato chiediamo scusa perché eravamo in tanti prima ora ovviamente l'abbiamo letto tutti vi meritate una birra tanto avete parlato è vero adesso infatti usciamo e al supermercato che chiude alle 10 compriamo anche birra cerveza stasera ragazzi io vado a Nanna 5 ore Faber Mors vero un grande abbraccio a te mi fai un Marco top Marco tu mettete nei miei panni quando ho visto i tortellini a Capitan Partene che erano buoni come quelli che fa la suocera cioè Marco dopo 5 mesi ti porta un piatto del genere cioè io ero come venito qua avevo la bava nel video non è che ho sacerato ho fatto meno di quello che dovevo fare il tiramisù se lo penso adesso io penso che quando vado a casa la suocera non so quello che che avrà fatto già mi dice che sono un maiale perché mangio tanto penso che si stupirà di quello che potrà vedere Angelo grazie che è un piacere ascoltarci Maurizio vamos de cerveza e stanotte solo cerveza allora dovrei salutarvi ma aspetto voi ma che c'è ho visto 10 volte la scena stanca nuova andate a spolverizzare qualcosa buon appetito grazie a tutto ciò che fate grazie a te Fabio grazie e comunque penso di interpretare il pensiero di tutti ci avete fatto passare una strada fantastica Alessandro non vediamo l'ora di vederci e magari la passiamo al MUNS da qualche parte a Corridoni aspettiamo Gio grazie grazie ci sentiamo offline grazie vamos amigos noi aspettiamo 261 persone ci stanno ancora qui noi aspettiamo che YouTube faccia un aggiornamento cioè che faccia sì che si possano vedere anche i chatters come si dice perché ragazzi noi sì siamo qua però mettetevi anche nei nostri panni noi stiamo parlando da soli dentro una stanza io penso che chiudo la live continui a parlare ancora la ragazza qua sempre attrava la Sabri un bacione un bacione un abbraccio ci vediamo adesso Francesco devi passare nel mio paese c'è un super prosciutto che ti aspetta mamma mia Luca perché mi dici allora Luca dovete sapere una cosa quando si parla di prosciutto in Italia poi si parla sempre di prosciutto crudo il prosciutto lo trovi solo in Italia e in Spagna poi l'abbiamo trovato a Capitan Pasteni quello che trovi qua è confezionato viene dalla Spagna sapete quando costa un etto di prosciutto qua confezionato che viene appunto sotto vuoto alla Spagna si vendono in confezione da 120-180 grammi quella da 180 costa 8 euro quasi quasi 8 euro io che non mangio il prosciutto che era un fan del prosciutto crudo vi posso dire che in 8 mesi l'ho mangiato 3 volte 2 volte una cosa del genere quello che è più difficile per un italiano in giro qua è il prosciutto crudo l'olio l'olio di extravergine di oliva che non si trova proprio dappertutto quindi bisogna fare attenzione anche l'olio extravergine d'oliva ragazzi è molto difficile io avevo il cruccio del caffè invece col caffè bene o male non mi sono abituata l'olio d'oliva invece devi fare attenzione perché hanno dei sapori molto forti no aspetta che il caffè si trova non si trova il caffè espresso va bene va bene non si trova il caffè espresso pochissimo l'olio d'oliva considerate che costa anche il doppio rispetto a quello che costa in Italia Giovanni dice Corridonia vi riceverà con la banda vediamo però Piero ci vediamo a Corridonia assolutamente assolutamente la prossima diretta pippona top facciamo un mio pippone in diretta la prossima volta è stato l'onore di essere con voi Marco saluti dalla Svizzera ma che bella serata grazie saluti dalla Svizzera Marco grazie ancora veramente grazie di cuore sei KTM che ti devo dire il collegamento vacilla vacilla ma siete sfocati ma sempre belli ci dispiace no abbiamo poca luce abbiamo poca luce e non posso girare la camera ho messo addirittura una basura che ci illumini perché la qualità miglioreremo miglioreremo sotto questo punto di vista la camera del portatile più di quello ragazzi non riesce a fare Sandra infila le protezioni ti aspettiamo a Corridonia forse questo forse questo allora se vi può far piacere anche una buona a gusto basta non mi dire più queste cose basta mamma mia fantastico interacere con voi in avvivo allora siete veri altro che siamo veri siamo due scemi Moto Guzzi buonanotte Tommaso buonanotte Bergamo Milano vi è piaciuto molto vi aspetto il modello un decimo vi è piaciuto il modello sky delirante allora vi è piaciuto il modello uno dieci la capisciotta Tommaso scusa volevo fare la capisciotta ma niente io vi saluto con un abbraccio spero di vedervi a vivo il prima possibile Andrea ciao ciao buonanotte ragazzi buonanotte ragazzi ma siete ancora due sessanta ancora non è vero non è vero allora quello di non è vero che avete sonno non è vero anche io su youtube che siete due sessanta va bene ragazzi noi vi salutiamo tutti vi salutiamo è stato un veramente un onore grazie per l'enorme supporto che abbiamo tralasciato tantissimi ci dispiace tantissimo ma era impossibile è stato difficilissimo poi magari se volete fare un'altra diretta voi scrivetelo nei commenti quando riusciamo faremo anche le premiere l'idea di finire questo viaggio che abbiamo portato fino a qua a Montevideo siamo rimasti in una bellissima zona ma vi posso garantire che ci saranno altri due o tre video con delle strade forse le più belle mai fatte quindi voglio finire tutto il cerchio poi ci riprenderemo in Italia con qualche video che voglio fare nella garage voglio toccare con mano la scrivania del mio garage oppure il tavolo che picchiavi ogni volta Lucia ciao Golgiama Stacano Avangelo ciao a tutti Thomas 110GS con voi in sfondo e avrai risposta di tutto ciò a brevissimo sì veramente ragazzi grazie di cuore veramente noi vamos a serla compra andiamo a fare la spesa per la cena io vado a farmi la doccia sì abbiamo bisogno di una doccia perché non si capisce ma avevamo l'ansia di presentarci a voi fate una prova fate una prova a parlare 3 ore e 28 minuti da soli però davanti a un muro è bellissimo è un'esperienza nuova veramente per noi ragazzi per noi è un lavoro io non lo nascondo è un lavoro perché ciao Gabriele ci dà la possibilità ci dà la possibilità di pagarci questa esperienza è il nostro lavoro cerchiamo di farlo in una maniera migliore grazie per il supporto ancora grazie ragazzi grazie infinitamente buona oggi è lunedì lunedì abbiamo fatto lunedì perché un'altra cosa di questo cambio di vita io ho perso proprio l'aspetto temporale non ricordo più quale giorno della settimana siamo è tornata mia madre nel frattempo ha ricaricato il telefono sì perché Maria Rita Lattanzi che è la mamma è tornata perché sicuramente deve dare la buonanotte una cosa del genere buonanotte mammi suocera suocera stai tranquilla che non te l'ha asciutto qui in Italia ormai è martedì vero Ivan verissimo ormai in Italia mezzanotte e mezza martedì ragazzi ciao a tutti ancora grazie ancora grazie di cuore grazie di cuore io faccio termina streaming dovrebbe essere quella cosa se io premo modifica cosa che succede? ah questa è una cosa voi che vedete ora? vedete ancora la nostra faccia o vedete qualcos'altro? tanto se non chiudete voi io non chiudo Alex e Mavri allora qui ho visto questo è il microfono per fare silenzioso no sto intanto sì sì voi vedono tutto sì sì vi vediamo continuano a vederci se facciamo quindi facciamo stiamo facendo esperienza con voi aspettate una cosa vi chiedo se io faccio questo e vado magari nelle foto e faccio questo ci vedete ancora? che vedete voi? torno di qua che vedete? la vostra bella faccia bene sì vi vediamo quindi la camera non si stacca mai devo capire come perché vorrei condividere un'altra camera qua separa la dashboard ragazzi state lavorando praticamente qua è un'altra cosa ora come torno da questa parte eccola qua eccoci ok grazie ragazzi grazie del supporto ho imparato qualcosa quindi termino termino lo streaming e diciamoci ma tutto vedo sempre voi grazie ragazzi vi abbiamo nel cuore grazie 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 buonanotte buonanotte perché sono da loro sono mezzanotte e mezza siete folli siete folli buonanotte a tutti ciao ragazzi un bacio a presto e grazie ancora per il supporto ci siamo pronti ciao che va a fare ciao ah qui devo fare questo la stima di grande lo sminamento non sapete avvivo ok termina ciao a tutti ciao a tutti